L'audizione del giorno rega il seguito dell'audizione di Lucia Borsellino e Fabio Trizzino, ai quali do il benvenuto e che ringrazio ancora per la non scontata disponibilità. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme di audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi. In tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Io ho iscritti diversi colleghi già dalla volta precedente, quindi procedo e segno le nuove iscrizioni. Procedo con chi era già iscritto. Se non c'è ancora, mentre arrivano li vedo. So che ci sono dei ritardi con i treni, però siccome alcuni di quelli già iscritti li aveva, inizio da loro. Do quindi la parola per le domande al senatore Rastrelli. Grazie. Mi consentano di associarmi anche personalmente ai ringraziamenti del Presidente per la vostra rinnovata disponibilità con quel carico di sofferenza che certo comporta. Mi lasciano dire che la vostra audizione nobilita e dà un senso particolare al nostro mandato parlamentare. Noi siamo tra coloro che ritengono che il diritto alla verità di cui avete parlato non sia una ossessione della famiglia o dei familiari delle vittime, ma un diritto che appartiene alla intera comunità nazionale. La verità di cui parliamo, quella sulla morte del Dottor Borsellino, purtroppo è stata ostacolata, e questo è di tutta evidenza, non soltanto da indagini o accertamenti non particolarmente approfonditi, ma anche da veri e propri depistaggi, nell'ambito dei quali naturalmente spicca quello che è stato definito il più grande depistaggio della storia nazionale, quello su cui si innestano poi i processi di Caltanissetta e la dinamica Scarantino. La mia domanda è rivolta specificamente all'Avvocato Trizzino, perché mi ha colpito una sua dichiarazione quando è giunto a sostenere che la logica del depistaggio ha addirittura preceduto la morte del Dottor Borsellino, e quindi le sarei grato se potesse chiarire questo specifico pensiero. E restando al tema del depistaggio e alla collaborazione di Scarantino, se loro hanno avuto modo, in qualche modo, di dubitare della veridicità delle sue dichiarazioni, ancora prima della divulgazione delle dichiarazioni di Spatuzza. Grazie. Sì, un attimo, se per lei va bene, Avvocato, ne faccio fare un paio, così riesce a rispondere più fluentemente. Ho iscritto l'On. Tenerini. Grazie, Presidente. Anch'io mi associo ai ringraziamenti all'Avvocato Trizzino e a Lucia Borsellino per queste audizioni veramente che ci hanno aperto una prospettiva importante anche per il carico umano e emotivo che abbiamo percepito, almeno che io ho percepito in queste lunghe ore, e la necessità, chiaramente, di arrivare quantomeno alla verità di una vicenda che riguarda tutti gli italiani, sapendo ed essendo cosciente personalmente che vivere all'ombra di questa verità, di qualsiasi verità, non è facile. Questo lo so per esperienza personale. Rispetto a quanto lei ci ha raccontato in queste lunghe audizioni, vorrei soffermarmi su una questione che lei ci ha già abbastanza specificato, però che vorrei in qualche maniera rendere più evidente. Cioè, dagli atti si evince, ed è circostanza storica nota, che il dottor Borsellino, nella fase che precedette la strage di Via D'Amelio, si incontrava con gli esponenti dei carabinieri del ROS che conducevano l'inchiesta a mafio appalti in una caserma dei carabinieri, pur potendoli ricevere piangevolmente in procura. Come mai il dottor Borsellino si recava a lui nella caserma dei carabinieri? Probabilmente non si fidava dell'ambiente della procura, e tutto ciò ribalterebbe le interpretazioni cervellotiche che hanno portato ai processi sulla cosiddetta trattativa, conclusasi con l'assoluzione piena degli esponenti dei carabinieri. La mancanza di trasparenza e di fiducia riguardava la procura o l'arma dei carabinieri? Grazie. Prego, a questo punto. Allora, per quanto riguarda il depistaggio, devo dire che nel processo ci siamo battuti per, appunto, in considerazione della immediatezza dell'esecutività delle azioni depistatorie, a porre la questione in termini strettamente logici, prima ancora che giuridici, che se il depistaggio inizia con la mancata repertazione della borsa, un trattamento della borsa del dottor Borsellino, come se fosse qualcosa che non andava invece attenzionata, come è previsto dai protocolli. Anche un uditore giudiziario, appena superato il concorso di magistratura, inviava a Renula, se gli aveste chiesto cosa avrebbe fatto lui della borsa di Paolo Borsellino, l'avrebbe repertato, con tutto il contenuto. Ma, al di là della borsa, noi abbiamo cercato di dimostrare che, essendo iniziato immediatamente il depistaggio, bisognava, in qualche modo, come dire, dimostrare che c'era una preordinazione ex ante. Tant'è vero che la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, accogliendo la nostra impostazione, afferma a chiare lettere che tra il depistaggio e l'esecuzione della strage vi è una correlazione diretta. Quindi, come vedete, è stata accolta la nostra impostazione, ma perché è nella logica dei fatti. La nota con cui il dottor Panza chiede al dottor Petralia il 20 luglio di non acquisire il traffico in entrata del dottor Borsellino non ha senso da un punto di vista del rispetto del protocollo delle indagini. D'altra parte, la risposta immediata che il dottor Labarbera diede ad un'indicazione neutra della famiglia per il tramite di Caponnetto con un'ansa del 24 Caponnetto si fa l'atore dell'ambasciata della famiglia circa l'esistenza di un'agenda rossa e io non vedo il motivo, se non in un'ottica strettamente depistatoria, di respingere immediatamente al mittente questa indicazione neutra, un contributo di indagine, dicendo l'agenda rossa, se c'era, è sparita o è andata distrutta nel corso dell'esplosione. Cioè, vi sono elementi che da subito, oggi valorizzandoli, ci dicono che il depistaggio è iniziato immediatamente e non il 24 giugno del 1994 come, diciamo, nel corso delle sue domande il senatore Scappinato ha detto, ponendolo in correlazione col fatto che come si concilia il fatto che Scarantino inizia a parlare il 24 giugno. Scarantino inizia a parlare il 24 giugno perché come sappiamo inizia il forsicking su Candura ma abbiamo la nota del 13 agosto del 1992 con cui il Sisde, con cui Ruggeri, il colonnello Ruggeri dice, da informazioni acquisite dalla squadra mobile di Palermo noi sappiamo, conosciamo non solo l'autore ma anche il luogo dove è stata ricoverata la macchina per l'imbottitura dell'esplosivo e al 13 agosto se potevano essere valorizzate le dichiarazioni della Sbigottiti con Petrina Valenti cioè la proprietaria della 126 con riferimento all'indicazione di Totò Candura del luogo in cui la macchina è stata imbottita non si capisce da dove lo prendono e poi vedi caso nel canovaccio, nello spartito fatto recitare a tre attori assolutamente incapaci di reggere la scena come Candura, Andriotta e Scarantino che si inseguono costantemente nella circolarità delle informazioni che vengono trasmesse dalla Polizia di Stato o meglio, da alcuni funzionari del gruppo Falcone e Borsellino quindi il depistaggio nasce immediatamente oserei dire alle 16.59 del 19 luglio ma non lo voglio dire sicuramente quella nota del 20 è spiegabile non acquisire il traffico in entrata del Dottor Borsellino è un vulnus alle indagini che si spiega soltanto nel tentativo di nascondere qualcosa che non doveva essere reso ostensibile per quanto riguarda quindi credo di avere risposto il Tribunale Caltanissetta in primo grado dice non c'è ormai più dubbio sulla base di quello che è stato diciamo riversato in atti che tra il depistaggio e l'esecuzione della strage c'è un diretto collegamento chiaro poi per quanto riguarda l'incontro alla caserma Carini io credo di aver spiegato abbondantemente come il Dottor Borsellino abbia vissuto il suo inferno prima ancora poi spero il paradiso per quanto riguarda il resto il suo inferno l'ha vissuto anche in seno alla Procura della Repubblica vi prego di valorizzare l'audizione della Dottoressa Falcone che dice Paolo mi disse di avere scoperto cose tremende il 23 giugno e le mette in relazione la stessa Dottoressa Falcone con Gian Manco è ovvio abbiamo ho dimostrato che il Dottor Borsellino ha dovuto interrompere il flusso delle comunicazioni e ne ha fatto confidenza ad Ingroia a Teresi e al Dottore Scarpinato che sapevano che il Dottor Borsellino aveva deciso di venire meno al dovere di lealtà che ha sempre connotato la sua azione di magistrato quindi c'erano problemi seri la necessità di un incontro alla Caserma Carini nasce dal fatto che allo Stato il Dottor Borsellino non si fidava della Procura di Palermo e segnatamente in primis del suo capo fa un incontro carbonaro lo ho definito con il rischio di subire anche un procedimento disciplinare per questo si svolge estremamente rapido l'incontro estremamente rapido perché neanche è non ha la titolarità formale neanche per fare quelle indagini ma se lui è arrivato a fare queste forzature io invoco lo Stato di necessità per evitare un pericolo a sé mortale che comunque non è riuscito ad evitare quindi i fatti sono lì a meno che come si tenta in più volte di dimostrare che Falcone e Borsellino erano degli incapaci allora dobbiamo dare per scontato che Falcone e Borsellino per carità erano fallibili anche loro non sono perfetti il dottor Borsellino pure ha fatto i suoi errori ma chi lo mette in dubbio ma non c'è dubbio che agli occhi della mafia di Cosa Nostra ed è quel grubo di interessi politici imprenditoriali che attorno alla mafia facevano azione di contiguità di collusione sia Falcone che Borsellino sono sempre stati considerati degli acerrimi nemici ma perché perché erano professionalmente validi si attenevano a ricostruzioni fattuali volevano afferrare le prove e quante volte hanno dovuto scarcerare persone di cui pur sapendo per esempio lo spessore di killer li hanno dovuti scarcerare perché non avevano le prove bisogna i giudici è giusto che tornino a fare i giudici e si occupano di prove di fatti quindi per quanto riguarda l'altra domanda quindi io credo che nei fatti che il giudice Borsellino avesse fiducia nei confronti del ROS e non nei confronti del capo della procura è non lo so di alcuni fedelissimi anche perché fondamentalmente io chiedo alla commissione di acquisire l'audizione segreta del maresciallo canale resa davanti al presidente del turco commissione in cui canale addirittura stava facendo dei nomi di alcuni magistrati di Palermo di cui il dottor Borsellino sospettava e la commissione credo che so che questa audizione probabilmente è segreta ma io credo che la commissione abbia il potere comunque di visionare questa audizione e vedrete che del turco lo blocca ma non perché lo vuole bloccare perché gli dice stia attento a quello che dice perché lei si limita a riportare una confidenza al dottor Borsellino benissimo oggi voi avete tutti gli elementi perché quella confidenza venga innestata si innesti in una serie di circostanze documentali e fattuali incontrovertibili per quanto riguarda invece il fatto se noi abbiamo creduto o meno a scarantino beh e questo è il senso del grande tradimento e del grande dolore che noi soffriamo oggi noi ci siamo affidati alle istituzioni e da quando dal 2015 ho cominciato a leggere tutti gli atti allora io lo dico chiaramente cioè quello che hanno combinato i magistrati che hanno indagato su scarantino andriotto e candura dal mio punto di vista professionalmente attenzione è qualcosa di inenarrabile e non mi si venga a dire il contesto non contesto perché quando si sceglie deliberatamente di non depositare per 33 mesi cioè per quasi 3 anni il confronto tra scarantino e cangemi in cui cangemi smentisce scarantino ma non sui fatti sulla stessa possibilità antropologica che uno come scarantino potesse far parte e assumere all'interno di una delle più eclatanti stragi della storia della Repubblica un ruolo qualche sia quale che sia denota come minimo la mancanza di capacità di conoscere le dinamiche di cosa nostra quel confronto in cui addirittura cancemi invoca dice ai magistrati per favore io sono la mafia ma voi siete lo stato non vi potete fare prendere in giro da uno così ebbene scarantino è stato stradifeso nella sua versione gli avvocati degli imputati mafiosi che hanno condotto una guerra senza sconti perché il depistaggio è stato sì preordinato bene ma poi alla fine è stato abbastanza grossolano perché gli attori a cui viene è stata data la parte da recitare erano veramente scarsi e solo che gli avvocati dei mafiosi erano mafiosi e i magistrati invece no e tutti siamo caduti in questo tranello terribile per cui oggi io non ho alcun timore ma per un atto di onestà intellettuale vi devo dire che nell'ambito del processo Borsellino 1 e bis chi ha difeso la toga del giuse Bosterlino sono stati gli avvocati e ancora io sto aspettando che qualche magistrato scriva l'elogio degli avvocati perché noi avvocati specialmente con riferimento alla ricostruzione di quella stagione stragista abbiamo svolto un ruolo come minimo paritario a quelli dei magistrati quindi noi ci siamo affidati alle istituzioni e le istituzioni ci hanno confezionato delle sentenze che a leggerle ancora oggi io inorridisco però la fiducia nella magistratura nelle istituzioni va sempre mantenuta intatta perché quella stessa magistratura che ha confezionato quei mostri poi si è messa a lavorare per restituire la nazione e a noi ovviamente una ricostruzione più plausibile quindi noi la fiducia l'avremo finché moriremo perché tradiremmo noi per primi l'esempio di Paolo Borsellino però se lei mi chiede se abbiamo dubitato non potevamo dubitare delle forzature incredibili che sono state fatte in quell'altro monastero che è la procura della Repubblica retta da Giovanni Tenebra e su questo vi devo dire che mia moglie ha da raccontare un episodio che è emerso con riferimento qualche warning noi l'abbiamo avuto ma non potevamo pensare a tutto questo e su questo credo si attarderà Lucia prego c'è stato un episodio che ci ha un po' inquietato che è stato tra l'altro rievocato da un testimone nel corso del dibattimento del processo Borsellino Quatero ordinario si trattava del mio allora fidanzato all'epoca dei fatti in cui appunto è stata compiuta la strage che ha portato alla morte mio padre il quale per le ragioni legate al fatto che in casa mia non si viveva più all'indomani della strage lui di fatto rimaneva a casa nostra fino a tardasera si trattava peraltro di un poliziotto di un agente di polizia in servizio presso la polizia scientifica di allora bene nel mese di febbraio del 1994 abbiamo ricevuto uno squillo al citofono di casa alle 21.50 o alle 10 addirittura e sotto casa c'era la moglie di Scarantino l'allora moglie di Scarantino la signora Rosalia Basile la quale con un gruppo di persone poi si è scoperto che aveva con sé anche un gruppo di persone bambini non so voleva salire a casa nostra e parlare con mia madre devo dire noi abbiamo visto questa incursione come un'incursione poco opportuna tenuto conto anche dell'orario e quindi il mio fidanzato da allora ritenne per tutelare la privacy familiare di scendere giù e fare da filtro visto che non avevamo un controllo stabile da parte delle forze dell'ordine nella nostra abitazione e quindi di fatto non consentì alla signora Basile di salire a casa e fece una relazione di servizio che su indicazione dell'allora questore mi pare fosse Finazzo che chiamammo perché era una persona della quale mio padre si fidava e della quale anche mia mamma e nella quale mia mamma riponeva fiducia il questore ordinò di fatto a quel ragazzo di fare una relazione di servizio e di inviarla oltre che al questore di Palermo anche al suo capo della polizia scientifica la signora Pluchino ebbene di quella relazione per molto tempo non se ne seppe nulla abbiamo scoperto solo in sede di dibattimento del processo Borsellino Quater che la relazione non era mai stata assunta agli atti dei processi ragione per cui questo testimone è stato sentito solo nel 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 praticamente già allora dalle poche parole che riuscirono a scambiare con la signora Basile il dottor Iuppa questo era il suo nome seppe che la signora Basile voleva riferire a mia madre dei maltrattamenti che il suo che il marito Scarantino subiva al carcere di Pianosa per essere costretto a parlare stiamo parlando di un periodo febbraio 1994 che è antecedente poi all'avvio del depistaggio, nel senso più pieno del termine. Volevo aggiungere una cosa, che il destinatario di quella relazione era il dottore La Barbera, che era quello che pestava a Scarantino per farlo parlare, quindi per questo non si trovò la relazione. Grazie mille, ho iscritto a parlare, se mi sente lo vedo io, quindi il vicepresidente Dattis. Grazie Presidente, scuso per l'assenza, ma sono contemporaneamente in Commissione Bilancio, ma sto seguendo l'audizione, ringrazio nuovamente l'Avvocato Trizzino e la signora Borsellino. Arrivo subito alle domande. Allora, all'Avvocato Trizzino, abbiamo compreso che, secondo alcuni, il dottor Paolo Borsellino, era consapevole, secondo alcuni, dell'orientamento dei settori della Procura di Palermo di archiviare l'imparto in tutto. Parlo dell'inchiesta Mafia Appalti, ma molti atti giudiziari, insomma anche quello che sta emergendo da queste audizioni, da molti atti giudiziari, si vince invece che il dottor Borsellino non era stato informato di una scelta che probabilmente non avrebbe condiviso. Ecco, in sintesi, proprio in due parole vorrei il pensiero dell'Avvocato Trizzino su questo e poi chiedere allo stesso quali furono, anche qui in sintesi, i magistrati che al tempo insistettero per le archiviazioni, quali cioè i massimi promotori di questa decisione di archiviare, seppur parzialmente, la mafia e appalti. Questa archiviazione, seppure parziale, a parere dell'Avvocato Trizzino, ha cagionato danni all'inchiesta di mafia e appalti e infine se l'inchiesta mafia e appalti, a parere dell'Avvocato Trizzino, della signora Borsellino ovviamente, può essere l'archiviazione, l'inchiesta in particolare, tra le cause principali poi dell'accelerazione della strage di via ad Amelio, perché da quello che stiamo ascoltando, visto che il dottor Borsellino aveva avuto centralità nell'azione investigativa condotta nel contrasto dell'azione dell'organizzazione mafiosa a Palermo in tutta la Sicilia. Grazie. Prego, Avvocato, visto che è da remoto, altrimenti… Sì, allora devo… questa domanda contiene in sé diverse cose per cui mi prenderò un po' di tempo per rispondere. Allora, noi fino a quando non abbiamo scoperto che c'era stata una riunione il 14 in cui Borsellino si presenta ed è l'unico, vi spiegherò i motivi, che conosce quel rapporto e fa delle domande al dottor Loforte. Noi, prima di avere appreso questa circostanza, sapevamo che c'era questa archiviazione, io personalmente non l'ho mai vista bene in relazione alla tempistica, no? Alla tempistica. Cioè, un'archiviazione fatta il 13, 22, 14. Ma ovviamente, venendo a sapere che Borsellino invece compulsa il collega sulla base delle dichiarazioni di testi qualificati presenti al momento, cioè il dottor Gozzo, il dottor Patronaggio, il dottor Matassa, la dottoressa Consiglio, eccetera, a quel punto mi sono posto il problema. Ma era informato o no di questa archiviazione? E qui sono cominciati i veri problemi. Perché? Ho sentito l'altra volta derubricare a battuta il discorso che Paolo Borsellino avrebbe abbattuta, sarcastica, dice quei due non me la raccontano giusta, non si può derubricare. Perché il problema è il contesto. Siamo in una riunione allargata a tutti i magistrati della procura, voluta dal dottor Giammanco, e non sono i condomini di un condominio. Il dottor Borsellino, ecco la cosa che non ci piace, che viene fatto passare per uno facilone. Io sto difendendo in questa sede la statura e lo spessore professionale del dottor Borsellino. Il dottor Borsellino, se dall'altra parte gli avessero detto facciamo un'archiviazione allo stato degli atti del 2789-90, visto che non citiamo i numeri, visto che non piace dire inchiesta mafia a parte, allora citiamo un numero, un numero di procedimento, se il dottor Borsellino avesse, e nessuno dei testimoni qualificati ne parla, avesse sentito guarda stiamo facendo un'archiviazione allo stato degli atti, invece no, il dottor Borsellino dice, come è finito con le carte di pantelleria? Tenete a mente questo dato, come è finita con le carte di pantelleria? Come mai non sono state inserite nella richiesta di rimiglio a giudizio del 9 marzo del 1992? Questa è una mia ricostruzione che sono costretto a fare deduttivamente perché tutti si guardano bene da ricordare veramente quello che è successo, anche in seno a quella verbalizzazione. Sono molto imprecisi, ma me lo immaginano giovani che erano lì convocati per una riunione, si sentono Borsellino che parla con lo forte, hai messo quelle carte, quali sono le carte? Sono le carte che con un'istanza del 4 febbraio del 1992 riguardanti gli imprenditori Antonino Spezia e Bulgarella Puccio, la procura di Palermo chiede e ingroia nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere semplice finalizzata alla turbativa degli incanti con gli amministratori del comune di pantelleria, manda a Palermo dicendo attenzione non rendete ostensibile questo verbale, sta parlando la segretaria di Antonino Spezia, rendetelo ostensibile nei limiti in cui non mi danneggi le indagini per associazione semplice a Marsala. E di queste carte perché Borsellino rimane a Marsala fino al 29 febbraio del 92, due giorni a Marsala, tre giorni a Palermo, il primo marzo prende possesso definitivamente della funzione di procuratore aggiunto di Palermo. Quindi Borsellino quando c'è la trasmissione degli atti sovrintende con ingroia questa trasmissione degli atti e vuole sapere dallo forte perché quegli atti non sono nella richiesta del mio giudizio che riguardano la posizione di Spezia e Bulgarella che sono archiviati, il 13, ma questa posizione è incomprensibile dal mio punto di vista questa archiviazione. Perché ci sono, allora vi devo spiegare le tre gare di pantelleria, mi dovete consentire questo breve, breve riferimento alle tre gare di pantelleria. Correggendo innanzitutto una cosa che ho detto nella foga della risposta, il Catti De Gasperi non viene prelevata la busta, ma viene in qualche modo convinto, con prospettazione di vantaggi futuri, non con minacce, viene convinto a ritirare un ricorso, a recedere meglio dalla volontà di presentare un ricorso giurisdizionale presso l'autorità amministrativa rispetto alla delibera di esclusione come gara dalla gara per la giudicazione appunto della gara per l'insediamento artigianale di Petralia, Bivio Madonluzza, che è il famoso episodio in cui io vi ho dimostrato che quelle parti di intercettazioni che inguaiano fino al collo Catti De Gasperi sono presenti nella richiesta di arresto del 25 giugno 1991 e spariscono dalla archiviazione del 13 luglio, dalla relazione del 7 dicembre del 92 al CSM per il caso Lima, di cui dovremmo forse parlare, e soprattutto dalla relazione citata in questa sede del febbraio 98, di cui è all'audizione del dottor Caselli nel 1999. C'è Catti De Gasperi che dice io, tutto spaventato da Sino, io prima di aderire a quello che mi dice Sino devo parlare con uno che è più in alto di esse. E soprattutto dice rispetto all'avvantaggio prospettato della gara io ho visto la griglia e lì non c'è niente, ma la cosa importante è che la griglia, cioè che non esiste il bando della gara di Monreale quando dice io ho visto la griglia. E questo conferma che le trattative venivano fatte prima e il bando era il momento in cui si formalizzava a discapito totale dell'interesse pubblico e quando questo interesse pubblico sussisteva si doveva trovare in modo attraverso le perizie di variante di creare provviste per corruzioni e per mantenere in vita il sistema. Quindi vi rendete conto come la posizione di Giorgio Zito e di Catti De Gasperi, Giorgio Zito al rapporto si parla dei lavori del CEMPES, il consorzio CEMPES era costituito dalla Tor di Valle, Catti De Gasperi, la Cisa di Cataldo Farinella e la Federici, la Federici era uno multinazionale il cui amministratore delegato per le coste di Sicilia sapete che era un uomo di San Giuseppe Iato. E' quello che combina Giorgio Zito con riferimento al consorzio CEMPES, ai lavori per lo stadio, ai finanziamenti e la cosa assurda è che nelle deleghe d'indagine i magistrati della procura di Palermo danno le giuste indicazioni, andate a sentire Fortis, andate a sentire Orcelle, fate le perquisizioni all'agenzia del mezzogiorno, fate tutto e poi tac, quindi ci sarà stato qualcosa e quel qualcosa cos'è? L'iniziativa di Gianmanco che invia il plico alle autorità politiche, lì devo dire una cosa, Falcone ha sbagliato, mi reassumo la responsabilità, io sarei andato immediatamente dal procuratore della Repubblica a denunciare Gianmanco per rivelazione del segreto d'ufficio, altro che nota di restituzione o avrebbe salvato probabilmente la sua vita e quella anche di Borsellino se lo avessero arrestato in quel momento Gianmanco per un reato gravissimo, cioè mandare una notizia di reato alle autorità politiche. Questo ripeto a chi dice ancora oggi che quell'indagine non valeva niente. Quindi non sapeva dell'archiviazione e Borsellino non lo sa, non lo può sapere perché non avrebbe mai accettato che la posizione di Spezia e di Bulgarella venisse archiviata, lo sapete perché? Perché le gare di Pantelleria sono tre e queste le conosce per ragioni del suo ufficio, perché Borsellino fino al 20 novembre del 1991 poteva indagare su fatti di mafia relativi al proprio circondario. Soltanto con l'introduzione del decreto del 20 novembre si crea la procura distrettuale antimafia e si crea la procura nazionale antimafia, quindi Borsellino è costretto a mandare le carte perché? Perché con riferimento alla gara della circonvallazione e alla gara di Contrada Scauri e di Arenella, l'associazione sta muovendosi, l'associazione mafiosa, Sino, Spezia, Bulgarella, Cascio e Rosario si muovono per stravolgere gli esiti di quella gara. E la cosa incredibile che emerge dal rapporto è che a un certo punto ci sarà una dilazione. Per quanto riguarda la gara della circonvallazione, che è quella famosa da cui il Ipera ritira la busta, fa il doppio gioco, si mette d'accordo con Iacobelli della Iagi perché l'Ipera nel frattempo sta cercando di coltivare un suo orticello. Ma attenzione, sta creandosi il suo orticello, ma lui si muove secondo le direttive di Claudio Decker, perché tra i atti sequestrati vi erano lettere compromettentissimi nei confronti di Claudio Decker. Eppure Claudio Decker viene creduto in tutte le sue deduzioni difensive e la buttano tutta sull'Ipera. Ecco perché l'Ipera non parla con Palermo. Non ci vuole parlare perché ha capito che hanno preso, non dico il nudus minister, però se la stanno prendendo con l'ultimo. E poi dobbiamo parlare delle manovre inquinatorie di Claudio Decker. Ne dobbiamo parlare. Allora, la gara di Pantelleria, perché sono importanti? Perché la gara di Pantelleria, quella della circonvallazione, doveva svolgersi inizialmente il 16 gennaio del 1990. Cosa succede? Succede che il Lipera non viene informato da Cani, che era l'altro esponente dirigente di Udine della Rizzani Decker, salvato anche lui nell'archiviazione del 13, o meglio, la sua posizione è stata ritenuta non suscettibile di attenzione, non lo avevano informato che dovevano cedere il pass, cioè dovevano fare vincere la gara ad altre imprese. Quindi lui cosa fa? Per cercare di coltivarsi il suo articello la propone, sta busta a Procopio della Iagi di Agrigento. Quindi fa il doppio gioco. Ma siccome le pressioni che stanno arrivando per la gara del 16 sono importanti, cosa fa? Si inventano la malattia del segretario della Commissione di Aggiudicazione Marino e rinviano la gara una prima volta al 25 di gennaio. Ed è interessante, le telefonate contenute nel rapporto, poi dal 25 della gara al 22 gennaio, scusate vado a memoria, nel 22 gennaio siccome gli accordi tra le imprese non sono ancora stati presi e questo emerge dalle telefonate del rapporto, un soggetto che era l'amministratore delegato di una società di Antonino Spezie fa una manovra dilatoria presentando un ricorso assolutamente inutile ottenendo l'effetto di rinviare la gara dal 22 al 25 gennaio. Il 25 gennaio si risponde a questa istanza del rappresentante di una ditta di Spezie, di Spezie Antonino, e poi si rinvia per la decisione definitiva al 22 o 25 febbraio del 1992. Ebbene, ebbene, la cosa che emerge dal rapporto sono le telefonate in cui Morici, Morici, Bulgarella, Sino, danno conto degli accordi che devono fare delle manovre dilatorie per arrivare a questa benedetta gara del 25 febbraio sulla circonvallazione con l'accordo sulle associazioni che devono vincere la gara. Quindi c'è tutto questo, poi la gara viene aggiudicata, ma la cosa incredibile è che la gara viene aggiudicata ad un'altra impresa che va con Sino, ma si scopre che l'impresa che vince la gara è essa stessa dei fratelli Spezia, quindi gli Spezia partecipano a queste gare sotto doppia veste, prima con l'impresa di famiglia e poi con l'impresa delle mogli. L'impresa di famiglia degli Spezia fa ricorso per ottenere la dilazione, poi l'impresa degli Spezia è intestata alla moglie e vince l'appalto. Questo è un meccanismo che il ROS spiega perfettamente e soprattutto sono le telefonate che spiegano come hanno fatto di tutto per prendere tempo e fare gli accordi in vista della vittoria di quella gara. E la cosa che non mi convince è che a un certo punto, soprattutto per le gari del 30 marzo, perché quella della circomanazione del 25 febbraio 1992, quella del contrario a Scaro e a Renella è del 30 marzo. E c'è una telefonata in cui il Sino parla con Bulgarella, parla con Salvatore Fauci e gli dice sono stato mortificato da Nino. Allora, noi abbiamo Sino considerato il dominus mafioso che viene mortificato da Spezia, archiviato, dicendo che non c'è nulla che possa afferire alla sua partecipazione all'associazione mafiosa nell'ambito del procedimento di cui ha rapporto. E i ROS cosa dicono? Perché tutta questa roba la trovate nella sezione del rapporto relativo all'associazione di stampo mafioso. Quindi già i ROS individuano in Puccio Bulgarella che addirittura ha una telefonata con Sino in cui parlano di un grande latitante che devono spostare il loro appuntamento in un luogo e Bulgarella dice tu l'hai saputo dove è andato a dormire quello? No, non lo so dove ci luccicano gli occhi. E i carabinieri del ROS scrivono probabilmente si riferiscono ad un grande latitante. E Puccio Bulgarella esce archiviato. Borsellino queste cose le conosceva e ce lo dice anche Canale il 24 marzo del 1998 al processo Borsellino bis. Andate a leggervi anche quelle dichiarazioni di Canale. È ovvio che Borsellino gli ha detto ma dov'esso... allora se Borsellino avesse saputo che Puccio Bulgarella, Nino Spezia, lo stesso Rosario Equizzi erano fuori da... perché Equizzi è un altro che è Caonsino, prendono un appalto per la ricostruzione dello stadio di Mazzara e affidano in subappalto occulto i lavori a un certo Lombardino che guarda un po' chi era Lombardino era il guardia a spalle di Accardo, boss di Partanna del Belice che era sotto l'attenzione di Paolo Borsellino. E viene citato nel rapporto, un episodio accaduto nel 76, quando il Lombardino come autista di Accardo Francesco venne fatto segno di colpi di pistola in un tentato duplice omicidio e che poi Mariano Agate per vendicare questo tentato duplice omicidio ne ammazza quattro tra il 76 e il 78. Il Lombardino sparisce, anche lui Equizzi sparisce dall'orbita delle considerazioni. Io mi infervoro, lo sapete perché? Perché tutti i grandi soloni del pensiero giornalisti dicono che questo rapporto era una cosa inutile. Io non accetto questa impostazione perché attraverso questo si vuole far passare Paolo Borsellino e prima ancora Giovanni Falcone come degli incompetenti e noi questo non lo accetteremo mai. Questo è il punto. La mia difesa non è del Ross, la mia difesa è del pensiero di Falcone e Borsellino che ritenevano questo rapporto fondamentale. Credo quindi il dottor Borsellino non lo sapeva, tanto ciò è vero e mi dispiace ma questo lo devo sottolineare, il problema dell'archiviazione si pone quando noi scopriamo la riunione del 14. E lì c'è una progressione dichiarativa davvero che deve essere degna di migliore attenzione. I magistrati che hanno fatto quell'indagine oggi ci vengono a dire che lo sapevano. Ma se andate a guardare le dichiarazioni rese in lo tempore non c'è nulla di tutto questo. Allora questa progressione dichiarativa dal mio punto di vista deve essere attenzionata. Perché non si può procedere secondo un criterio strettamente come dire antitetico rispetto a cui per cui il tempo passa e i ricordi dovranno essere minori. No, qui il tempo passa e i ricordi aumentano. Quindi sinceramente su questo io voglio la giusta attenzione. Quindi perché la mafia a parti è importante nell'ottica dell'accelerazione della strage? Ma non lo dico io. Lo dicono le sentenze definitive, il TER, il QUATER, lo dice la sentenza di primo grado del tribunale, lo dice il provvedimento di archiviazione i mandanti occulti bis, lo dice la stessa Gilda Loforti, di cui dovremo parlare. Perché la teoria della doppia informativa non esiste. È stata confutata, smentita da un giudice terzo, il giudice del procedimento, il giudice delle indagini preliminari dal dottoressa Gilda Loforti, la quale interviene nel marzo del 2000, cioè in epoca successiva alle dichiarazioni del dottor Caselli alla Commissione nazionale antimafia. Quella prospettazione unilaterale contenuta nella relazione viene confutata nei punti fondamentali da un provvedimento di un giudice terzo. E non si può far finta che questo provvedimento, se siamo ancora in una cultura della giurisdizione, è come se non esistesse. Perché lì la dottoressa Gilda Loforti, rifiutando l'archiviazione Tucurra e richiedendo con un'ordinanza del 27 gennaio 1999. Una serie di approfondimenti documentali e non riesce a dimostrare l'infondatezza della tesi della doppia informativa. E io sinceramente non so più come spiegare che questa cosa non esista. Non ci riesco più. Vi dico andatevelo a leggere perché io si vede che non sono buono a spiegare questo fatto che la doppia informativa non c'era e che i magistrati della procura di Palermo aspettavano la sirap e lo sapevano e soprattutto la dottoressa Gilda Loforti riesce a dimostrare che nelle notizie di reato interlocutore del 30 aprile, del 3 luglio, scusa perché questo è un punto fondamentale, del 30 aprile, del luglio, dell'agosto del 1990 c'erano tutte le intercettazioni, comprese quelle di Lima con il Ciaravino che parlano di Cataldo Farinella e che il ROS venne semplicemente autorizzato al riascolto, non a fare nuove intercettazioni. Tant'è vero che la dottoressa Gilda Loforti li bacchetta. Voi avevate tutto lì, non le avete visti, ma non potete buttarla sui carabinieri perché i carabinieri hanno agito correttamente. Tant'è vero che De Donno è stato archiviato in tutti i procedimenti, compresi quelli disciplinari. Quindi noi riteniamo sulla scorta degli atti, ricordate l'affermazione di Montalto Salvatore, Cucciolo portava Borsellino di parlare di queste cose e Borsellino non mi risulta che abbia parlato di eversione nera, Gladio, massoneria, ma ha parlato e l'ho dimostrato internamente del fatto che Falcone voleva tornare a fare il magistrato e che, come ho dimostrato internamente, Borsellino aveva sulla scorta delle pregresse interlocuzioni costanti con Giovanni Falcone il chiodo fisso di mafia a parti. Grazie mille, avvocato. Io ho ancora sei iscritti a parlare, quindi ne faccio due insieme che sono tutti e due in presenza intanto. Quindi ho iscritto l'onorevole Congedo e poi il senatore Sisler. Grazie Presidente, un grazie non rituale all'avvocato Trizzino, all'ottoressa Borsellino per questa audizione che immagino sia stata particolarmente impegnativa non solo per la mole di dati, fatti, circostanze e ricostruzioni che ci avete offerto. Con riferimento all'accelerazione della strage di Via da Meglio, successivamente a quella di Capaci. Nella sentenza di primo grado sulla trattativa stato-mafia, che poi è stata annullata ma non so se sono state ancora depositate le motivazioni, viene riportato che una delle ragioni per cui Cosa Nostra, in particolare Rina, dette un'accelerazione alla seconda strage con tutto quello che poi ne avrebbe conseguito in termini anche di attenzioni mediatiche e dello Stato fu dovuta al fatto della trattativa tra Stato e mafia, che venne percepita da Cosa Nostra e da Rina come un segnale di debolezza delle istituzioni e dello Stato e che quindi da quello Stato di debolezza Cosa Nostra avrebbe potuto lucrare in termini di ulteriore tempo a disposizione o di acquisizioni di territori per incentivare il loro disegno criminale. Mi sembra che nell'arco della sua lunga audizione Avvocato abbia riportato qualcosa riferito proprio all'accelerazione. Con questo passaggio della sentenza di primo grado mi piacerebbe sapere qual è il suo pensiero sostanzialmente. Grazie Avvocato, faccio fare anche il Senatore Sisler così potete rispondere. Prego Senatore. Grazie Presidente, io ho due domande per la dottoressa Lucia Borsellino che vorrei anzitutto ringraziare per la disponibilità, l'hanno già fatto altri ma ci tengo a farlo anch'io perché possiamo solo immaginare cosa significhi per lei continuamente ripercorrere quei giorni, quindi la ringraziamo. Posso solo dirle che per noi, per molti di noi, suo padre ha rappresentato e rappresenta un modello ed un esempio, quindi spero che questo possa servire da parziale, se non diciamo così, consolazione. Due domande dicevo, ma anzitutto se lei ricorda quale fosse la posizione di suo padre circa l'idea del dottor Falcone di costituire la superprocura e se c'erano invece dei magistrati contrari a quest'idea della costituzione della superprocura. La seconda domanda invece è emersa chiaramente dalla ricostruzione articolata dell'Avvocato Trizzino quale fosse l'idea di suo padre circa la procura nella quale operava, questo mi è sembrato evidente. Al contrario invece quali erano i magistrati con i quali suo padre aveva un chiaro rapporto di fiducia, cioè con quali magistrati lui più aveva questa simbiose del rapporto di fiducia. Grazie dottoressa. Prego dottoressa Borsellino. Intanto sono io che ringrazio ulteriormente la Presidente e voi per la pazienza di averci ascoltati perché per noi questo è stato un momento sì faticosissimo che mai forse avremmo voluto avere, immaginare, visto l'andamento che le cose hanno avuto nel corso di questi trent'anni ma vi ringrazio anche per la pazienza nell'ascolto di queste lunghe audizioni che complessivamente credo abbiano accumulato otto ore e credo che non sia facile neanche per voi. Però per noi, dicevo, rimane forse, non so se è l'ultima o ce ne saranno altre occasioni di questo genere perché abbiamo capito che, evidentemente lo avete notato anche delle nostre parole, non c'era più tempo per attendere, per dire come la pensavamo rispetto agli atti che si sono consolidati perché qui non stiamo prospettando opinioni personali che non siano suffragate. A maggior ragione noi figli che non avevamo e non abbiamo le competenze tecniche ma abbiamo certamente un substrato culturale per poter comprendere quanto è accaduto. Colgo l'occasione anche per esprimere in questa sede una mia profonda amarezza per le espressioni di sconcerto che le nostre audizioni avrebbero in alcuni casi provocato. Lasciando al loro posto le relazioni familiari che intercorrono anche con alcuni componenti della famiglia d'origine, mio papà, che ritengo debbano rimanere nell'ambito di un alveo strettamente intimo, in quanto ritengo profondamente irrispettoso, quantomeno per la nostra intimità che vengano rese oggetto di dichiarazioni pubbliche, a fronte anche del contegno istituzionale che senza tema di smentita ciascuno di noi, della famiglia nucleare e dell'avvocato anche Trizzino, hanno mantenuto nel corso di tutte le sedi istituzionali e non nelle quali ci siamo trovati a dover sporgere delle dichiarazioni e delle denunce pubbliche, mi preme con profondo dolore e dispiacere dover constatare che ciò purtroppo si è verificato. Noi, come ha detto mio marito, siamo qui per difendere unicamente nostro padre e l'operato di nostro padre. Non abbiamo e non vogliamo sfruttare occasioni di questo genere per tessere le lodi o meno di uomini per ciò che hanno compiuto o non hanno compiuto, perché comunque a questo risponderanno loro stessi, alle loro coscienze. Noi tra l'altro non abbiamo neanche pronunciato, e lo devo dire, il nome del dottor Di Matteo nel corso delle nostre edizioni che come appunto avevo ricordato hanno accumulato circa otto ore, ancorché l'ambito oggetto della nostra ricostruzione è stato unicamente quello dei 57 giorni che intercorsero tra i due stragi. E in quei 57 giorni non potevano esserci certo come protagonisti magistrati che noi abbiamo conosciuto soltanto successivamente. Detto questo, e mi scuserete anche per questa premessa, per quanto riguarda l'opinione che mio padre aveva sull'organismo della super procura ideato da Giovanni Falcone, voi sapete come mio padre nella sua estrema franchezza non ha mai omesso di dichiarare il suo dissenso anche nei confronti dell'opinione e dell'ideazione di un progetto come quello della super procura, ancorché fosse fatto da uno dei suoi più intimi amici, quale appunto Giovanni Falcone rappresentava per mio papà, oltre che stimatissimo collega. Mio padre ebbe in modo anche pubblicamente di esprimere le ragioni per le quali manifestava il suo dissenso. Lo ha fatto anche in occasione di una seduta pubblica, ricordo vi era la presentazione del libro del sociologo Pino Arlacchi, nel corso del quale il ministro Scotti, presente in quell'occasione, ebbe quasi a candidarlo pubblicamente alla super procura, tenuto conto che già si era consumata la strage di Capaci, era il 28 maggio del 1992, e mio padre si irritò fortemente per questa candidatura pubblica, non solo perché appunto aveva già in passato espresso il suo dissenso, perché riteneva che questo organismo, lo dico in breve, tenuto conto che non sono un tecnico, fosse un organismo che sia utilissimo, ma che avrebbe comunque determinato un accentramento di forte potere in capo ad un unico soggetto, e in quel caso sì, ironicamente, papà, e non troppo ironicamente, diceva che probabilmente a quell'organismo l'unica persona che poteva essere preposta era proprio Giovanni Falcone. Ma questo lo dimostra ancora più quando, a seguito di questa candidatura fatta in maniera così anomala, questa proposizione alla candidatura fatta in maniera così anomala dal parte del ministro Scotti, papà ebbe a irrigidirsi al punto che alcuni giornalisti ricordano che ebbe ad andarsene senza neanche rispondere alle loro domande, cosa che non avrebbe mai fatto in altre circostanze per la sua nota caratura umana e cortese anche. E allora preferì rispondere con una lettera, che se volete vi leggo, perché l'ho conservata in tutti i miei atti, che inoltrò al ministro Scotti e a cui chiese addirittura di renderla pubblica se ne avesse voluto. Quella lettera non fu mai pubblicata, ma fu resa nota soltanto con la prima biografia fatta sulla vita di mio papà da parte del giornalista Umberto Lucentini. Un attimo soltanto perché volevo leggervi qualche passaggio. Ecco qui. Onorevole signor ministro, mi consente di rispondere all'invito da lei inaspettatamente rivoltomi nel corso della riunione per la presentazione del libro di Pino Arlacchi. I sentimenti della lunga amicizia che mi hanno legato a Giovanni Falcone mi renderebbero massimamente afflittiva l'eventuale assunzione dell'ufficio al quale non avrei potuto aspirare se egli fosse rimasto in vita. La scomparsa di Giovanni Falcone mi ha reso destinatario di un dolore che mi impedisce, infatti, di rendermi beneficiario di effetti comunque riconducibili a tale luttuoso evento. Le motivazioni adotte da quanti sollecitano la mia candidatura alla direzione nazionale antimafia mi lusingano, ma non possono tradursi in presunzioni che potrebbero essere contraddette da requisiti posseduti da altri aspiranti a detto ufficio, specialmente se fossero riaperti i termini del concorso. Molti valorosissimi colleghi in vero non posero domanda perché ritennero Giovanni Falcone il naturale destinatario dell'incarico, ovvero si considerarono non legittimati a proporla per ragioni poi superate dal Consiglio Superiore della Magistratura. Per quanto a me attiene, le sue esposte riflessioni, cui si accompagnano le affettuose insistenze di molti dei componenti del mio ufficio, mi inducono a continuare a Palermo la mia opera appena iniziata. Appena iniziata, eravamo al 28 maggio del 1992, in una procura della Repubblica che è sicuramente quella più direttamente e aspramente impegnata nelle indagini sulla criminalità mafiosa. Lascio ovviamente a lei, onorevole signor ministro, ogni decisione relativa all'eventuale conoscenza da dare a terzi delle mie deliberazioni e di questa mia lettera. La seconda domanda, ricordo tra l'altro solo per inciso, che in quel periodo appunto si era, mi pare il ministro Martelli aveva proposto la riapertura dei termini del concorso e la questione poi appunto fu risolta dal CSM. Allora, per quanto riguarda i colleghi di mio padre con cui intercorrevano rapporti di maggiore fiducia e di amicizia, allora anche qui per evitare, visto che purtroppo ne siamo continuamente esposti al rischio di strumentalizzazioni di quelle che sono le nostre parole, noi per primi non vogliamo fare parlare una persona che non c'è più, benché forse ne abbiamo il diritto. Io vorrei rappresentare in questa sede, perché vedete anche la nostra partecipazione a questa audizione, per quanto mi riguarda in particolare, mi ha costretto a ripercorrere non solo la vita vissuta insieme a mio padre, ma anche i trent'anni che mi sono vista trascorrere davanti. E per una ragione di sopravvivenza, perché non la posso definire in altro modo, io mi ero per un certo periodo anche tenuta lontano dalle carte, ma ho ragione in quest'ultimo periodo in cui una grave malattia ha messo a dura prova la mia salute. Allora, però l'ho dovuto fare, l'ho dovuto fare perché non posso accettare che siano sempre altri a parlare per lui. Allora a questo punto, nel ripercorrere questi trent'anni di storia, mi sono ricordata che la borsa di mio papà non conteneva soltanto l'agenda rossa. La borsa di mio padre, addetta del carabiniere Arcangioli, che l'aveva prelevata e del quale uno dei tanti che l'aveva prelevata e del quale si è riusciti, grazie anche al movimento dell'agenda rossa, io questo non nego i meriti a chi ce li ha, di mettere a fuoco tutti questi fotogrammi che avevano poi identificato nel carabiniere Arcangioli, uno di coloro che aveva preso in mano materialmente la borsa, lui ricorda, o lui o Maggi, che era una delle altre persone che l'aveva presa prima di lui, che la borsa era pesante e piena. Quella borsa ci è stata restituita solo con il costume di mio padre, le chiavi di casa, un pacchetto di Daniel e un'agenda marrone. Noi sappiamo per certo, da quello che abbiamo acquisito successivamente, che la borsa di mio padre conteneva, oltre all'agenda rossa, anche il fascicolo di Mutolo, così come ha dichiarato il dottore Aliquo nelle audizioni innanzi al CSM nel 1992. Mio padre non avrebbe mai portato con sé la borsa da lavoro solo per metterci il costume da bagno. Ebbene, di questa borsa noi non abbiamo mai avuto un verbale né di acquisizione né di consegna, anzi prego questa commissione di cercarlo vivamente e di rendercene dotti nel caso in cui fosse possibile, e in questo sono sicura che riuscirete più di noi, ad acquisirne copia. Ma quello che è ancora più grave è che quando anche ci fosse una repertazione, perché così dice il dottore Cardella, tra i test che sono stati sentiti e che sembrerebbe avere per un certo momento dovuto repertare quella borsa che è stata per oltre cinque mesi abbandonata sul sedile, sul divanetto della stanza dell'allora capo della squadra mobile dottore Arnaldo Dall Barbera come un oggetto qualunque, come se invece anche per decoroso rispetto nei confronti del deceduto questo non fosse un effetto personale di cui in ogni caso avere cura, anche se non aveva rilevanza ai fini investigativi, perché questo è stato detto, che la borsa e il suo contenuto non avevano alcuna rilevanza ai fini investigativi. Ebbene, anche in questa presunta repertazione che è stata riferita dal dottore Cardella, lui ammette di non avere repertato l'agenda marrone, perché all'interno della borsa c'era anche un'agenda legale di color marrone che conteneva una rubrica telefonica. Allora, tenuto conto della complessità di questa storia, io ritengo da profana, da cittadina, ma che è spinta in questo momento soltanto dall'amore immenso per un genitore al quale non finirà mai che dire grazie, che in questa storia anche il minimo respiro di mio padre e quindi anche il minimo scritto può avere una rilevanza ai fini investigativi, soprattutto se letto dopo tanti anni. Quell'agenda ci fu consegnata, ma ci fu consegnata senza alcuna repertazione, quindi noi ne siamo in possesso da 30 anni senza aver mai saputo che questa agenda non ha mai avuto alcuna attenzione sotto il profilo delle indagini e la teniamo per questo conservata nel nostro archivio. In questi giorni, poiché questo lavoro per noi è stato un lavoro, anche che è cominciato molto tempo prima delle date in cui le audizioni sono state fissate, ma in questi ultimi giorni è continuato, io ho chiesto a mio fratello di fornire a questa commissione le copie scansionate di quella rubrica telefonica, che io vi consegnerò e sarà mio padre a far comprendere chi erano le persone di cui si fidava e quelle di cui non si fidava. Però vorrei, anche per evitare a loro volta strumentalizzazioni su questo importantissimo reperto, anche dare una chiave di lettura, che vorrei dire in questo caso senza alcuna modestia, che solo noi figli possiamo dare. Perché in quella rubrica sono contenuti anche i numeri di alcune persone strettamente appartenenti alla cerca familiare, perché era una rubrica che comprendeva tutti i contatti di mio padre, sia quelli professionali che quelli familiari. Ed è stata aggiornata, peraltro, la mattina del 19 luglio, perché era ospite in casa nostra, il cugino di mio padre che risiede in Veneto, che è stato per lui un fratello, che ha vissuto a casa nostra in quei giorni, il quale ricorda proprio, lo ha testimoniato nel corso del Borsellino 1 a marzo del 1995, che mio padre stesse proprio aggiornando i numeri e lo vedrete perché alcuni numeri sono stati aggiornati con un inchiostro di colore blu rispetto agli altri. Ecco, in questa agenda voi troverete per tre quarti i nomi di magistrati dei quali alcuni riportano anche i numeri di casa, quelli privati, eccetera. Ora, la lettura è questa. Questa, diciamo, su plus di numeri che venivano indicati, erano indicati perché o mio padre con queste persone aveva un rapporto di lealtà e di confidenza tali che aveva necessità di cercarli dovunque, oppure erano persone, mi riferisco in questo caso al suo procuratore Gian Manco per portare un esempio, con le quali necessariamente doveva avere tutti i numeri di telefono, in quanto lo doveva poter reperire in ogni momento della giornata per questioni lavorative. Non troverete, un dato è chiaro che i numeri che non troverete sono quelli con i quali queste frequentazioni non c'erano o erano sporadiche o erano mediate. Su questo io mi assumo tutta la responsabilità. Non troverete anche, e lo dico in partenza, il numero dei miei nonni, perché erano persone il cui numero naturalmente era impresso nella memoria di mio padre, li chiamavo ogni giorno. Non troverete il numero della sorella Adele, presso la quale mia nonna risiedeva per gran parte dell'anno, perché la chiamava ogni giorno. Non troverete il numero della mia migliore amica, che mio padre chiamava ogni giorno, perché non c'erano i cellulari, ma troverete quello della sua campagna, della casa di campagna. Quindi questo già spiega che la mia chiave di lettura è assolutamente autentica, è verosimile. Per i numeri che non troverete, non lo so, lascio a voi ogni valutazione. Grazie, dottoressa. Sicuramente chiederemo anche il verbale sul contenuto della valigetta. Prego, Avvocato Trizzino. Per quanto riguarda la domanda sul processo strato mafia, io nel corso della mia audizione ho detto che, conoscendo perfettamente quelli che sono i meccanismi procedurali, per cui è il giudice che alla fine stabilisce il materiale probatorio che deve entrare, allora io ve dico, ve lo ribadisco. Nel momento in cui il presidente Montalto e il giudice hanno scritto che Borsellino non conosceva il rapporto mafia-palti, per me, io ho preso e ho chiuso. Perché? Ma con questo non voglio dire che quell'iniziativa, se andate a sentire la mia arringa al processo Messina Denaro, io ho definito quell'iniziativa improvvida perché, per certi versi, ha in qualche modo determinato un ulteriore innalzamento della soglia di pericolo dal lato di chi era interessato ad eliminare Borsellino in ragione della sua attenzione per mafia-palti. Perché? Perché chi va, chi contatta, chi è De Donno, il materiale redattore del rapporto, insieme a generale Mori. E da chi vanno? Da Ciancimino. Che definirlo Gianno Bifronte è qualcosa di no, però Ciancimino era all'interno del sistema degli appalti. Ciancimino era sicuramente un soggetto che, qualora avesse deciso di saltare il fosso, avrebbe ulteriormente rafforzato e rinfocolato le risultanze probatorie contenute nel rapporto delle indagini precedenti. Quindi io non ho dubbi che si è trattata di un'azione info-investigativa, come è stata percepita all'esterno. Il punto ce lo spiega bene Brusca. Brusca, al processo Borsellino-Terre, ci dice bisogna vedere chi lo che ci arrivò a Reina. Cioè, nel passaggio delle informazioni, perché Brusca è particolare e su questo la pitruzzella lo distrugge sul piano dell'attendibilità, allorché, nell'ambito dell'abbreviato a carico di Calogia-Romannino, dice attenzione, Brusca all'inizio si concentra su mafia-palti, ci spiega il meccanismo egemonico di Totorina, poi quando diventa in voga il processo trattativa, tac, si ricorda del papello, di questo e di quell'altro. E lì si pone il problema della gestione delle dichiarazioni errate dei collaboratori di giustizia, no? È Brusca che viene totalmente distrutto in quella sentenza proprio perché la progressione delle sue dichiarazioni è sospetta e, e sembra, dice la giudice, volere in qualche modo accontentare le domande suggestive, le suggestioni dei pubblici ministeri che stanno facendo quelle indagini. Questo è molto importante, lo dobbiamo tenere presente, perché il Brusca iniziale, quello del 98, ci parla di mafia-palti. Con Sino ci danno un quadro perfetto del fatto che la mafia si è spaventata di Borsellino. Lo dicono chiaramente, ma Cucciu puoi stare a parlare di queste cose. Sino ci dice, noi abbiamo capito che Falcone aveva capito quando ci ha detto che la mafia era entrata in borsa. Ferfin, Ferruzzi, Massa Carrara, tutto distrutto, eh? Tutto. Ed è importante perché, attenzione, Buscemi nel 2003, nel 2000 viene indagato per 422. Cioè viene considerato stragista Nino Buscemi e Lipari Giuseppe. I giudici dicono noi purtroppo non possiamo andare tanto perché purtroppo non abbiamo le bobbine e sono stati distrutti i brogliacci. Attenzione! È importante la distruzione e la smagnetizzazione e la distruzione dei brogliacci. È molto importante perché ci spostiamo dalla Tangentopoli ad un procedimento in cui i mandanti occulti sarebbero Nino Buscemi e Lipari Giuseppe. Attenzione! Questo è un passaggio che forse non sono riuscito a spiegare. Perché c'è un'indagine per 422 a carico del Buscemi Antonino. Non c'è solo mica la Tangentopoli. E i giudici PM, Messineo e gli altri si lamentano del fatto che gli atti dal 94 gli vengono trasmessi nel 2000 e che purtroppo gli atti originari di Massa Carrara sono smagnetizzati o spariti o distrutti. Questo deve essere chiaro ed è negli atti. Non mi sto inventando nulla. è negli atti. Quindi io le dico una cosa. Considerata quindi, io di fronte a dichiarazioni progressive come giurista, faccio mille analisi. Ok? Dico perché non l'ha detto prima? E poi c'è un'altra cosa che io ho un dato sociologico che vi voglio rassegnare. Perché in questi anni si è parlato solo del processo trattativa quando noi a Caltanissetta stavamo scoprendo il più grave depistaggio della storia giudiziaria italiana, oggi considerato, come dire, prodromico e propedeutico, l'assassinio di Porsellino e dei suoi angeli custodi e sui giornali non c'era una riga, una, e venivano santificati, no? E chi stava combattendo a Caltanissetta un'altra battaglia molto più decisiva, come oggi vedete, c'era il silenzio assoluto, quel silenzio che continua. E qualche giornalista che chiama a me depistatore? No, noi i depistaggi li abbiamo subiti e oggi abbiamo contribuito a scoprirli. Noi i depistaggi li abbiamo subiti, deve essere chiaro questo. Allora, la trattativa Stato-Mafia è stata solcata, abbiamo partecipato a Caltanissetta nell'incidente programmatico perché è stato valutata come possibile movente dell'accelerazione. Ma poi quando Caltanissetta ha scoperto che il papello era falso, che Ciancimino aveva mentito, Massimo Ciancimino, aveva mentito, sa storia di passaporto, il signor Franco, individuato in un soggetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un soggetto che veniva portato nelle trasmissioni come l'icona dell'antimafia. Caltanissetta ha detto non è possibile, non è quello il motivo, lo abbiamo solcato, lo abbiamo affrontato. Ma poi dico io, ma ce lo chiediamo perché è il momento del redderazione, secondo me. Io ho aspettato questo momento perché vorrei dire anche a certi giornalisti che io ho letto nel luglio del 22 quando ha fatto un articolo in cui ha chiesto quale fosse il segreto che era stato rilevato a tre magistrati da Borsellino, Teresi, Scarpinato e Ingroia, e io pur sapendo che loro sapevano quale fosse il segreto. Di fronte al silenzio di non ricordarlo non sono andato sui giornali, ho aspettato l'audizione davanti a un organo istituzionale. Allora mi aspetto che quel giornalista oggi rintervisti quelle persone per vedere se ricordano quale fosse il segreto che io ho rivelato nel corso delle audizioni. Deve finire questo utilizzo della ricostruzione del sacrificio di Borsellino, Falcone, come marketing. C'è in gioco ben altro, c'è in gioco ben altro la sanità delle istituzioni innanzitutto, ma soprattutto perché quello che è accaduto non ritorni più. Quindi io alla trattativa ho sempre guardato con sospetto, le dico la verità, sospetto che poi si è inverato quando ho letto che Borsellino non conosceva il rapporto, ok, smentito dai fatti, e soprattutto quando si va per ragionamenti, dice ma Borsellino quando uccidono Falcone, dice ad Alberto di Pisa, questa è una strage per stabilizzare, non per destabilizzare. La strage viene considerata da Borsellino come il tentativo di cui vi ho detto alla prima audizione di uno Stato che sta per essere scoperto nelle sue degenerazioni di utilizzare la strategia dell'attenzione con formule, ma attenzione, ma non c'entra la versione nera, gladio, massoneria, è il sistema dei partiti, da Tordi Valle a il NOS, in nulla osta sicurezza, quando si devono fare opere pubbliche che riguardano la sicurezza nazionale, Catti De Gasperi era uno degli imprenditori impegnato, Graul Gardini con una telefonata blocca Augusto Lama, di questo stiamo parlando, di questo stiamo parlando, il potere finanziario e noi oggi stiamo vedendo come la politica ha totalmente ceduto il dirigismo delle nostre vite al potere finanziario. Ed è il mondo che sta cambiando, quello del 92. Quindi Borsellino dice a Di Pisa, attenzione, questa è una strage per stabilizzare, non per destabilizzare, perché pensano ancora che utilizzando le stragi si possa, no, come facevano ai tempi, ma non è, ma non è, ma non è Stefano Delle Chiaie, la massoneria, non lo so, ma anche se ora vi devo leggere qualcosa perché devo correggere un punto, ma quelle piste sono state solcate, se ci sono novità denunciatele, fate le vostre inchieste, noi stiamo proponendo un'altra rilettura che è stata totalmente negletta, anche perché io mi fido delle conclusioni a cui arrivò il dottor Natoli nell'ordinanza sentenza di rinvio a giudizio del 1991, del 9 giugno 91, lì ho fatto un errore, ma non un errore, cioè nella foga di correre, perché qui io avrei migliaia di cose da raccontare, di atti compulsati e da, come dire, a corroborare il mio ragionamento, io l'altra volta ho detto che l'ordinanza sentenza di rinvio a giudizio con i confronti di Michele Greco più 18 nell'ambito dei veriati politici è stata di Falcone, no, è stata di Gioacchino Natoli, però la requisitoria scritta del 9 marzo del 1991 è stata firmata da tutta la procura della Repubblica, tra cui ovviamente anche Giovanni Falcone. E quando ho riportato quel passaggio in risposta all'onorevole Provenzano, io ho detto che in poche parole c'era una sovrapposizione perfetta tra le conclusioni in cui è arrivato Giovanni Falcone nella requisitoria scritta a pagina 1102, con, che è il passaggio secondo cui, in vero tutti i più attendibili e significativi elementi, di questo Giovanni Falcone che scrive, nella sua requisitoria scritta che poi verrà a pagina 1450 recepita nell'ordinanza sentenza di rinvio a giudizio del dottor Natoli. Quindi in vero tutti i più attendibili e significativi elementi di valutazione emersi da un decennio di indagini perché i delitti reina di piersanti materiali della torre avvengono tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Inducono ad escludere che un'alleanza di questo tipo, cioè un'alleanza legata alla massoneria, ai servizi segreti, alle versioni nera, che un'alleanza di questo tipo si sia mai stabilita e ciò per l'irriducibile vocazione di Cosa Nostra a salvaguardare la propria segretezza e la propria assoluta indipendenza da ogni altro centro di potere esterno. Allora, o diciamo che Falcone non ha capito niente, non ha capito niente di Cosa Nostra, oppure continuiamo, c'è una parte dedicata proprio alla pista nera, ci sono le dichiarazioni di Alberto Volo, le dichiarazioni di Alberto Volo, le considerazioni sull'attendibilità, c'è tutto, lui l'omicidio Mangiameli, il comportamento processuale di Volo nel procedimento relativo alla strage, allora Falcone ha sondato tutto e allora cosa dice Falcone? è stato categoricamente escluso, in particolare che Alberto Volo avesse mai avuto contatti con i servizi di sicurezza o con l'organizzazione Gladio. Con riguardo alla struttura Gladio è opportuno ricordare poi che ulteriori accertamenti documentali sono stati compiuti da questo ufficio nell'ambito di un diverso procedimento riguardante l'omicidio di Giuseppe Insalago, l'ho spiegato, ce lo spiega bene il 2 dicembre 1998, il giudice Guarnotta che era uno dei giudici delle sezioni Stralzo, il giudice istruttore, noi abbiamo l'istanza del partito comunista che vuole sapere anche con riferimento all'omicidio dei delitti politici, ma siccome la requisitoria doveva essere scritta anche perché il giudice Natoli doveva diventare sostituto procuratore il 10 giugno del 1991 c'erano dei tempi proprio che bisognava rispettare, dice poi affrontiamo la problematica di Gladio nel procedimento per l'omicidio di Giuseppe Insalago e lì Falcone arriva a questa conclusione. In tal sede l'esame della documentazione completa concernente tutte le persone inserite nella struttura ed anche semplicemente valutate per un loro eventuale inserimento ha consentito di escludere l'esistenza di alcuna relazione con i temi e le persone costituenti oggetto del presente procedimento e siamo nel 1991. Quindi abbiamo Falcone e gli altri magistrati della procura che arrivano a questa conclusione e dall'altra parte nel 1991 abbiamo il dossier mafia appalti, abbiamo la fine della partitocrazia incipiente e nel processo Borsellino Quattere viene riportata addirittura una cosa incredibile dal mio punto di vista, c'è un incontro tra il capo della polizia Vincenzo Parisi, il ministro Scotti e il generale Pisani, cui partecipa anche l'allora segretario dell'ADC, il bresciano Martinazzoli. A un certo punto il capo della polizia dice ma mentre al sud c'è lo stragismo, siamo nel settembre 1992, al nord c'è l'avanzare della Lega. Come c'è l'avanzare della Lega? Ma è il corpo elettorale che si stava esprimendo. Questo per farvi capire che il sistema temeva il cambiamento prima ancora dentro le cabine elettorali. Questo è il punto. Questo è il punto perché un capo della polizia che mi dice ma è pericoloso questo avanzamento della Lega al nord, ma di che cosa stiamo parlando? Il 5 aprile del 92 c'erano state delle regolari elezioni politiche democratiche. Ecco per dirvi come il sistema teme il cambiamento che sarebbe vi è più stato accentuato e accelerato dalle inchieste a Tenaglia, da nord e sud, di Pietro doveva morire. Cosa c'entra di Pietro con l'eversione nera? Cosa c'entra di Pietro con Gladio? Cosa c'entra di Pietro con la massoneria? Di Pietro doveva morire perché era l'attendente al nord delle stesse indagini che si dovevano fare a sud. Grazie mille avvocato. Allora io ho ancora cinque iscritti a parlare e li vorrei fare tutti ricordando che alle 14 c'è voto in aula quindi cerchiamo di stare tutti nei tempi. Inizio dall'onorevole Orlando e poi ho De Rao e Decorato. Grazie presidente, grazie avvocato. Io credo che un insieme di suggestioni che sono state sottoposte a questa commissione ci pongano diciamo di fronte a una ricostruzione che merita un approfondimento tanto più che parrebbe non aver avuto questa sorte nelle diverse vicende processuali di cui ci siamo occupati in questi anni, di cui si è occupata la magistratura però diciamo al di là dei fatti che naturalmente sono molti e quando si individuano si individuano sempre attraverso uno schema di lettura diciamo che con onestà l'avvocato ha in qualche modo esplicitato. Ci sono alcune questioni sulle quali volevo capire come coniugava i diversi aspetti diciamo che comunque sono emerse nelle vicende processuali anche se non hanno portato a una verità definitiva. Cerco di richiamarli. La ricostruzione che ci offre è quella di un sistema partitocratico agonizzante che utilizza la mafia come strumento di stabilizzazione. In questa ricostruzione però entrano in contraddizione alcuni diciamo fatti. Il primo è quello dell'omicidio di Salvo Lima perché Salvo Lima diciamo così può essere considerato tutto tranne che è un antagonista dell'eventuale sistema delle tangenti essendone diciamo stato in qualche modo il garante politico questo credo che sia un dato accertato diciamo anche in sede giudiziaria. Il ormai provato processualmente mandato ad uccidere nei confronti di Calogero Mannino anche in questo caso. Mannino è risultato estraneo diciamo ad alcune contestazioni che le sono state fatte ma sicuramente non emerge come un antagonista del sistema partitocratico. Mi pare diciamo che sia difficile collocarlo storicamente a differenza probabilmente di Piersanti Mattarella e di Alte o di Piola Torre. In questo caso ci troviamo di fronte diciamo a un protagonista di quel sistema. L'altro aspetto che diciamo in qualche modo vuole capire come viene coniugato è comunque dopo il 91 un protagonismo di alcuni elementi che con le versioni nere avevano molto a che fare e che sono protagonisti non solo anche qui accertati in sede di sentenza da ultimo riguardo alla questione rispetto alle indagini della procura di Firenze. Mi riferisco in particolar modo alla figura di Bellini. Bellini è uno stabilizzatore del sistema del tavolo delle tangenti è uno strumento. Fatto sta che la mafia diciamo così accetta il suggerimento di deviare il proprio orientamento dalle stragi nei confronti di persone per orientarlo verso stragi. Quindi non è un soggetto in qualche modo che è entrato in contatto occasionalmente e ha avuto una buona idea. Evidentemente c'era una frequentazione risalente che si può pensare fosse anche antecedente non lo sappiamo ma ci sono elementi che possono suggerire questo antecedente al 1991. L'ultima considerazione sempre diciamo così per capire come si combinano questi aspetti è il tema della strategia complessiva non solo che la mafia adotta all'indomani del 91-92 che sembra in qualche modo guardare a non tanto a una difesa del vecchio sistema ma a una partecipazione alla costruzione del nuovo. Il tentativo di costruire la Lega Sud, il tentativo di lavorare sul fronte diciamo così di un riordino del sistema diciamo la vicenda il ruolo e la funzione svolta anche qui stiamo alle carte svolta nell'interlocuzione con Dell'Utri nel momento della fondazione di Forza Italia. Tutti elementi che come dire sembrano alludere più che a una mafia come dire preoccupata per il crollo del vecchio sistema interessata con la consapevolezza o meno dei soggetti destinatari di questo interesse ma interessata alla costruzione del nuovo assetto che si viene a determinare. Ecco questi tre elementi quindi titoli gli omicidi eccellenti della partitocrazia l'aspetto che riguarda la conclamata interazione con le versioni nera probabilmente risalente a prima del 91 ma questo non sono in grado di dimostrarlo. L'aspetto che riguarda invece diciamo così la funzione come posso dire comunque il candidarsi ad essere elevatrice del nuovo assetto che si viene a determinare della mafia sembrerebbero in qualche modo in contraddizione con la ricostruzione che lei ci ha proposto. Grazie onorevole Orrando. Prego Vicepresidente Derao. Grazie Presidente. Innanzitutto devo ringraziare la dottoressa Lucia Borsellino, l'avvocato Trizzino per il grande contributo di conoscenza che ci hanno dato per il panorama amplissimo di cui hanno parlato che ci aiuta a leggere ancora meglio di più le carte e a confrontarle anche con tutto il quadro già acquisito. E questo è importante perché il diritto alla verità è un diritto riconosciuto alla nostra stessa Costituzione e che dobbiamo necessariamente rispettare. Ne va della nostra democrazia. Un punto voglio sottolineare. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino saranno sempre degli eroi per noi. Nessuno ha mai messo in dubbio la loro statura morale, etica, professionale. Sono dei giganti, dei giganti ai quali tanti di noi si sono rivolti, ai quali tanti di noi hanno scelto di essere magistrati proprio guardando quel modello. Quindi qualunque eventuale ventata sporca a cui voi avete forse fatto riferimento in qualche intervento credo che non sia stata colta assolutamente da nessuno di noi e da nessun componente di questo popolo italiano che rispetta e ricorderà sempre con persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Io vorrei fare alcune domande. In primo luogo, se fosse possibile avere qualche miglior chiarimento, ma è possibile che più di quello che è stato detto non è possibile avere. Nido di vipere. Avete delle indicazioni specifiche? È possibile rilevare con nomi e cognomi? Poi c'è stato anche un riferimento ai fedeli di Giammanco e a tutto il restante ufficio. Giammanco quindi poggiava su un sostegno all'interno del proprio ufficio su uomini che erano fedeli a lui e non seguivano invece l'andamento di quello che era un orientamento diverso nell'ambito dell'ufficio. Un altro aspetto. Contrada era uomo che operava come esponente dei servizi con Tinebra. Tinebra si avvaleva di lui e anche di altri. Quando poi il procuratore aggiunto Paolo Borsellino assume questa informazione che resta solo oralmente acquisita di uomini presenti nello Stato legati a Cosa Nostra, quindi Contrada, Domenico Signorino. Immagino che questa sia stata una notizia sconvolgente. Domenico Signorino era stato il sostituto che aveva portato avanti il più grande processo che c'è stato a Cosa Nostra. Quindi associarlo a Bruna Contrada e pensare che le indagini su Giovanni Falcone fossero portate avanti da persone che venivano da Gasparremuto, lo ritenuto uomini di Cosa Nostra, deve essere stato veramente sconvolgente. Ecco, su questo, se poteste dare, sempre che ce ne sia, qualche ulteriore indicazione, perché certamente non può essere restato così privo di una conseguenza anche interiore di una persona, di un gigante, come il preguratore aggiunto Paolo Borsellino, una notizia così sconvolgente. Avete poi parlato di qualcuno che lo ha tradito, o lo aveva tradito. Certo, non era il generale Subranni, che pure comunque, almeno sembra, e non l'ho ben compreso in verità, il quale comunque, nel momento in cui acquisisce la notizia dell'esplosivo che arriva a Palermo e dà informazione ad Andò, al procuratore Gianmanco, non lo dice proprio al suo amico procuratore aggiunto Paolo Borsellino, il che effettivamente è un'altra informazione sconvolgente, questa, nel momento in cui se ne prende atto. Anche su questo, se riuscissi ad avere una vostra risposta. Ancora, nella sua ampia esposizione dei rilevanti fatti che hanno preceduto la strage di Via D'Amerio, è stato dato un significativo rilievo all'incontro alla caserma Carini del procuratore aggiunto Paolo Borsellino, con il generale Mori, il capitano dei Donno, in cui si parlò delle indagini mafia appalti di tali incontri. Il generale Mori e il capitano dei Donno, però, non ne hanno mai parlato in prossimità di quella strage, di una strage così importante. Quando ne parlano? Sembra la prima volta alla fine del 97 o inizio del 98, potrei però aver perso un suo passaggio, è avvocato Trizzino. E di questo ne parla anche il GIP, in quel provvedimento di archiviazione cui lei ha fatto riferimento, il Gilda Loforti. E sottolinea anche un aspetto di quel tipo. Anche su questo, se fosse possibile, vorrei avere una sua indicazione. Posso? Ecco, Vicepresidente, ricordo solo a tutto il tempo. No, no, facciamo terminare il Vicepresidente e poi risponde, avvocato. Allora, molto ancora brevemente, ci fu una proposta di sorveglianza speciale, di sequestro di beni nei confronti di Buscemi Antonio, Antonino, e Buscemi Giuseppe, anche con riferimento alla Calcestruzzi SPI, acquisti immobiliari e tanti altri beni che appunto appartenevano a costui, proprio come indiziato di appartenere alla mafia. E questa risale al 28 ottobre 1992. E quindi già lì la prima delega era stata data nel 91, è stato un sollecito il 15 luglio 92. Ecco, su questo, se lei effettivamente anche questo era un precedente. Ed ancora era stata poi emessa una ordinanza di custode, nei confronti ho quasi finito, di Rina Salvatore più 24, fra i quali vi era anche Buscemi Antonino, ma vi era anche Ceravino Antonino, vi era Rodigiani Vincenzo, e vi erano grandi mafiosi, al tempo stesso grandi imprenditori, proprio quelli a cui lei ha fatto riferimento. Questa però viene depositata il 17 maggio, il 25 maggio del 93, viene poi eseguita. E infine, lei ha, proprio nell'ambito di tutte le sue conoscenze, legato in qualche modo la strage di Capaci e quella di Via D'Amerio, con quello che è stato successivamente il programma stragista continentale, laddove in alcuni provvedimenti giudiziari si dice che si trattava di un progetto unitario, sostanzialmente, e veramente ultimissimo, se vi fossero elementi in relazione all'omicidio del dottor Scopelliti, che era sostituto procuratore generale, avrebbe dovuto rappresentare, come è noto, il pubblico ministero davanti alla Corte di Cassazione nel maxiprocesso. e se ne fossero relazioni appunto alla cosiddetta falange armata, che rivendicò l'omicidio di Scopelliti, e alle strutture Gladio, di cui appunto parlava, riunendole assieme, già l'ordinanza, la sentenza ordinanza, quella dell'italicus bis, che pure sembra in qualche modo poter integrare un quadro generale. Veramente la ringrazio, Avvocato Trezzino, ringrazio Dottoressa Lucia Borsellino, avete dato un contributo straordinario in una spinta notevolissima a quello che sarà il nostro successivo lavoro. Grazie Presidente. Grazie a lei Vicepresidente, per facilitare la risposta, le do subito la risposta, Avvocato, ovviamente prende il tempo che deve, ci mancherà. Allora, chiedo il consenso ad invertire l'ordine delle risposte. Prima rispondo all'ex procuratore nazionale di Rau, e poi all'onorevole Orlando. Per quanto riguarda il nido di vipere, lei deve metterci un qui. Qui è un nido di vipere. Qui. Quel qui cambia tutto. Procura della Repubblica. Per i fedelissimi è Antonio Ingroia che ce lo dice. Al processo di pistaggio e alla commissione Claudio Fava. Lo forte e Pignatone. Per quanto riguarda Contrada e Tenebra, fu Vincenzo Parisi, tramite il genero Costa, a chiedere la collaborazione di Contrada, il quale, in tutto quel contesto, fu l'unico che si mosse secondo legalità, dicendo Ah, io non sono autorizzato, potrò lavorare a questa indagine soltanto se ottengo l'autorizzazione. B. Diede le giuste informazioni, che furono assolutamente non seguite. Graziano e Madonia. C. Contrada viene posto sul luogo della strage, immediatamente, ed è riuscito a dimostrare che si trovava altrove. Altrimenti avrebbe avuto un 422. Quindi Contrada a me sembra più, come dire, un soggetto da sacrificare in nome di alti giochi che avvengono a Roma. non è vero che il dottor Borsellino non venne informato da Subbranni, subito. I carabinieri seguono una gerarchia ben precisa. Lei, come procuratore nazionale antimafia, avrà sicuramente letto la dichiarazione di Sinico nel processo Borsellino-Terre, che dice che Baudo e Obinu si recarono dopo aver appreso il 15. la informazione dal carcere, grazie al maresciallo Lombargo, si recano da Borsellino. E Borsellino dichiara, dichiara il capitale Sinico, dice io devo lasciare qualche spiraglio per la famiglia. Questo lo dichiara Sinico con riferimento al giorno 16 giugno del 1992. Il 18 arriva in anonimo, con la bara, con una bara e già manco quest'anonimo lo voleva stracciare. Lì Natoli si oppone. Il dottor Natoli. Il 19-20 arriva all'informativa di Subranni e Paolo Borsellino si incavola non perché non sa che il tritolo è arrivato, perché glielo comunicano Baudo e Sinico il 16 di giugno. E queste cose dovrebbero essere patrimonio della procura nazionale antimafia. Ma si incavola perché l'inerzia del dottor Gianmanco nell'attivare il comitato di sicurezza è la prova approvata che le cose tremende che stava scoprendo è che aveva un procuratore che gli rimava contro davvero. Quindi sgompriamo il campo che Subranni Subranni ha detto ai suoi sottoposti avvisate subito Borsellino e ci vanno in ufficio e ce lo dice il capitano Sinico. Per quanto riguarda le dichiarazioni sulla caserma Carini neanche il dottore Scarpinato fino al 2021 ci ha detto che sapeva che il dottor Borsellino avrebbe dovuto incontrare avrebbe dovuto incontrare i rossi e non dirlo a Gianmanco l'abbiamo scoperto nel 2021 da Vezzano lo ha dichiarato il senatore Scarpinato. Le leggo la sua relazione? No però questa interlocuzione non si può fare senatore grazie. E agli atti io mi riferisco ad atti. Per quanto riguarda il sequestro dei beni avviene nell'ottobre del 92 e Sino ci dice che quei beni dopo 15 giorni furono restituiti. per quanto riguarda il progetto unitario lì se per progetto unitario si intende e voglio rispondere in parte anche all'onorevole Orlando Lima e Mannino sicuramente sono amici o considerate tali soprattutto Lima su Mannino poi ci sono stati processi e noi in questo paese bisogna prendere atto che ci sono giudici terzi che possono decidere e se la decisione non ci piace la dobbiamo accettare ok no 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 onorevole la prego non ho dato parola di replica nessuno vale per tutti la prego la prego onorevole Orlando non rimanga agli atti un addebito che ho fatto all'onorevole Mannino era solo una ricostruzione politica il problema qual è Rina ha subito e l'ho spiegato bene nel corso delle mie adozioni ha subito la sentenza del Maxi ha subito la sentenza Basile Rina ha un problema di leadership interna spaventosa non è riuscito a garantire nulla alla sua organizzazione di quello che aveva promesso e infatti crea la supercosa stringe attorno a sé fedelissimi e questo emerge dalle risultanze del processo Messina-Denaro Porsellino Quinques Capaciter quindi ha la necessità di contemplare ai suoi esodali che è il momento della vendetta perché ci manca pure che rimane fermo rispetto al fatto che si stanno prendendo tutti si sono tutti presi l'ergastolo il teorema Buscetta è stato confermato quindi Lima va ucciso lui contempla ai suoi nella riunione del dicembre del 91 va ucciso perché non è riuscito a proteggerci Mannino è una cosa che sappiamo da Brusca Brusca ci dice dopo Falcone doveva morire Mannino e poi c'è il clinamen cioè la deviazione su Borsellino quindi l'omicidio Lima va innanzitutto inserito nella necessità a chi ha Salvatore di contemplare all'esterno che ci deve essere una reazione e come ho spiegato prima il disegno egemonico di Salvatore Rina come ce lo spiega benissimo Brusca prima di andare verso il papello ed altro è quello di sedersi lui al tavolino e questa è la grande differenza tra la mafia di bontà dei malamenti Greco e gli altri Rina vuole sedersi al tavolino il che significa intrecciare rapporti diretti con Raul Gardini il quale non mi si venga a dire che in quegli anni non aveva il potere con una telefonata non dico di decidere perché poi lui pagò la decisione sulla mancata nella la mancata diciamo defiscalizzazione delle plusvalenze però chi era Gardini Gardini è uno che poteva alzare il telefono e dice allora mi fate io faccio Enemont e se mi fate la defiscalizzazione delle plusvalenze poi siccome i politici Craxi e compagnia e gli altri non volevano mollare le galline delle uova d'oro dei mite e tutti quelli non gli fanno il provvedimento di defiscalizzazione delle plusvalenze ed è levante alla John Venture è più complicato di quello che sembra io io rivendico il mio sacrosanto diritto di utilizzare paradigmi interpretativi non tra latizi perché l'Italia il mondo stava cambiando e l'ho spiegato nell'analisi del contesto storico e poi io ho fatto nome e cognomi chi chiede l'autorizzazione allora o pensiamo ad uno stato italiano totalmente governato da una spectra per cui Panza chiede di non acquisire il fascicolo quell'altro la borsa la tratta come niente Tinebra fa i depistaggi la Barbera fa i depistaggi allora ma tutti questi soggetti a chi rispondono rispondono alle versioni nera alla massoneria che ne so io io vi ho portato dei dati ma dire che la Barbera Panza Tinebra sono come dire dei sodali fanno parte delle versioni nera sinceramente mi riesce difficile ma se si mi dimostrerà io lo accetto ma ci mancherebbe io ho solo l'interesse a che si scopra per conto di chi questi soggetti hanno agito però Borsellino dice qui è un nido di vipere e questo credetemi non è stato mai analizzato a sufficienza questo siamo venuti a dirvi per quanto riguarda la strategia unitaria allora anche qui si è sempre pensato a cosa nostra come un monolite a qualcosa che già nel marzo del 92 Borsellino fa una dichiarazione in cui dice Rina e Provenzano sono come due pugili in lotta anche lì andrebbe rivista la famosa monoliticità unitarietà della commissione eccetera io credo che Rina e lo spiegato agisse in pieno delirio di onnipotenza per necessità sue interne e perché era convinto che appunto dando i colpetti potesse potesse utilizzare i vecchi sistemi per cui poi alla fine ci si accordava la politica della mediazione come vi ho detto nel corso della mia audizione introduttiva sul contesto dovete inquadrare questa risposta con riferimento al disegno egemonico di Rina Rina pensa di poter essere lui colui che va a occupare il vuoto di potere che si sta per determinare per effetto delle indagini ma ma questa consapevolezza viene dopo nel 93 nel 92 le stragi ecco perché io non lo ritengo un progetto unitario nel 92 le stragi hanno una ragione preventiva che viene venduta come vendicativa alla maggior parte della commissione che non sa degli affari di Rina e del disegno egemonico di Rina per arrivare al tavolino quindi le stragi di Capace e Via D'Amelio non sono connesse con le stragi in continente perché lì se un simulacro di un'unitarietà della deliberazione delle commissioni si potrebbe rinvenire nel disegno vendicativo nei confronti di Falcone e Borsellini rispetto alla strategia stragista in continente quando cioè è fallito la logica preventiva di bloccare quelle inchieste Rina tra l'altro catturato i suoi sodali cercano di giocare l'impossibile ma io non vedo non vedo tra Italicus non so Bologna Italicus non so io ho sentito pure Portella della Ginestra come se fosse come dire un disegno unitario come se gli anni non passano solo per noi e per il mondo ma tutto è feo quando si parla di mafia e dei rapporti stato mafia ci si ferma il tempo non passa i paradigmi non vengono superati tutto rimane come dire quando io sento parlare di Portella della Ginestra associata alla strage di Falcone e Borsellino io divento pazzo letteralmente come se la storia gli eventi il dinamismo sociale anche il cambiamento culturale all'interno dello stesso sodalizio mafioso ma c'è una differenza enorme tra Messina Denaro e Totorrina per substrato culturale per strategia per tutto e le nuove generazioni saranno ancora peggio e quindi meglio per noi quindi Lima l'ho spiegato Calogero Mannini Bellini il progetto della Lega Sud fa parte di questo tentativo di creare un proprio spazio addirittura c'è un verbale della Commissione Nazionale Antimafia la posizione del defunto onorevole Mattioli in cui dice attenzione guardate che quelli persi per persi hanno un punto dice va di moda il leghismo va di moda una specie di proviamo la strada della Lega del Sud proprio per occupare per occupare e darsi un ruolo perché ci piacciono la cattura di Riina getta getta Provenzano ci dirà poi Cangemi e soprattutto ce lo dirà Giuffre Riina voleva uccidere Provenzano quando Giuffre ci dice che quando Riina gli chiese ma chi ora ne esce Binno Giuffre ha capito che attraverso il il boss di Caccamo fedelissimo di Provenzano Riina tramite questo quindi siamo prima della cattura di Riina Riina voleva addirittura uccidere Provenzano perché voleva il campo libero in questo suo disegno pazzesco folle in pieno delirio di onnipotenza Bellini Bellini è una figura inquietante sono d'accordo con con l'onorevole Orlando ma Bellini è diciamo fa parte di quel mondo di mezzo perché Bellini è protagonista di alcune trattative una è quella famosa legata alla restituzione di alcuni beni artistici ed è il Bellini che si propone al Brusca Giovanni perché attraverso il famoso maresciallo Tempesta se ricordate si fa questa prima trattativa ma è chiaro che in quel momento storico dove tutti perdono dei punti di riferimento l'unica falange armata veramente esistente non è quella che rivendica il 21 giugno il fatto che Ayala sta mentendo sui diari di Falcone sulle annotazioni perché le annotazioni poi le abbiamo trovate la falange armata voi sapete è stata poi studiata dal giudice Salvini è stato dimostrato che molte volte si trattava di hacker e soprattutto si è dimostrato di un'agenzia o giornalistica in Portogallo dove lì è vero in piena in piena epoca pre crollo del muro di Berlino si era organizzato un centro spionaggio di spionaggio tant'è vero che chi voleva indagare su quella struttura in Portogallo poi è stato bloccato per motivi di segreto di Stato perché lì c'era anche attraverso l'utilizzo per carità di soggetti di estrema destra fondamentalmente l'utilizzo di una cellula di contro spionaggio ma sempre in funzione anticomunista ok quindi la vera falange armata che io ho visto operare seriamente in quegli anni erano le battuglie di Rina che pazzavano Tritolo e poi ho visto un'altra falange armata muoversi uomini dello Stato che hanno fatto di tutto per depistare le indagini sulla stragevia d'Amelio se voi riuscite a dimostrarmi che cos'è la falange armata ok io sono il primo a dire allora portatemi le prove che esiste un'altra falange armata che è la vera no io conosco solo quelle falange armate credo di avere esaurito tutto per quanto sì tutto ah manca l'omicidio scopelliti beh diciamo che sull'omicidio scopelliti c'è da dire che conosco poco non posso sapere tutto so solo che una delle causali viene individuata nella inavvicinabilità dello stesso con riferimento alla requisitore che avrebbe dovuto fare la funzione di sostituto procuratore di Cassazione rispetto alla maxiprocesso io vorrei ricordare che già Rina si mosse molto per cercare di 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 aggiustare il maxiprocesso non ci riuscì e lì sul versante diciamo calabro catanese ammetto di non avere le stesse conoscenze che ho sulla mafia del versante occidentale quindi qualora mi si dimostrerà che Scoppelliti è stato ucciso anche attraverso diciamo l'intervento di terroristi eccetera io io non posso che prenderne atto cioè qui quello che veramente vorrei che restasse che noi stiamo cercando di offrire materiale nuovo e di non andare sempre a riciclare del materiale vecchio che è stato già oggetto di ampia derivazione nelle sedi competenti grazie mille avvocato io ho ancora tre iscritti a parlare inizio e dove arriviamo ovviamente prego onorevole decorato ma io volevo ringraziare sia la dottoressa Borsellino sia l'avvocato Trizzino perché perché lei da quando ha iniziato nella prima audizione ha iniziato con il paragone mani pulite e mafia io ero e sono stato consigliere comunale a Milano dall'85 fino al 2016 e ho vissuto in quegli anni tutta la vicenda di mani pulite nel consiglio comunale di Milano quindi non è che devo dire altro la sua ricostruzione mi ha lasciato veramente mi ha impressionato soprattutto perché questo accostamento mafia appalti non era mai stato fatto e questa nella domanda che io le farò poi noi avremo modo di sentire anche il dottor Di Pietro perché in un'intervista all'Espresso lei l'ha citata in diverse in diverse del 19 gennaio 2020 ad esempio lei ha detto che Di Pietro fu portato in Costa Rica in un certo a un certo momento perché c'era il rischio questo è un fatto che a Milano non si è mai saputo e questo è un fatto anche di un certo rilievo e lei dice che in questa intervista del 19 gennaio 2020 Antonio Di Pietro racconta l'incontro con Paolo Borsellino ai funerali l'incontro avviene ai funerali di Falcone dice il dottor Borsellino ci siamo parlati e lui ripeteva dobbiamo fare presto dobbiamo fare presto con riferimento alle indagini sul rapporto del ROS Di Pietro spiega il valore di quell'indagine giungendo addirittura ad affermare che Mani Pulite e Palermo sono un'unica storia e questo emerge in maniera chiarissima da quello io per questo la ringrazio perché è una dopo quello che lei ci ha detto credo che i dubbi possono essere pochissimi io non li ho il riferimento decisivo e proprio all'indagine su Gardini e la Calcestruzzi guarda caso Mani Pulite non è partita da Milano ma da Palermo con il rapporto dei ROS del 91 questo per esempio è un fatto fondamentale a meno per chi come me per anni ha vissuto nel Consiglio Comunale di Milano con denunce varie che ho portato anche al dottor Di Pietro questo rapporto dei ROS che io ritengo un dato fondamentale nella storia di quello che è accaduto nel nostro paese in relazione a tutte le vicende delle tangenti a Milano come a Palermo questo rapporto dei ROS del 91 viene messo in cassaforte da Giammanco guarda caso dove veniva raccontato quello che poi quello che ho scoperto anni dopo dice Borsellino domanda avete notizie sul rapporto personale tra il dottor Borsellino e il dottor Di Pietro cosa pensate di queste affermazioni perché lei le ha citate ma non siamo mai entrate di queste affermazioni del dottor Di Pietro che è inutile dire è stato l'autore di tutta la vicenda di Mani Pulite almeno nella parte più importante grazie avvocato faccio fare anche le altre due così risponde quindi ho il senatore russo e se mi sente subito dopo l'onorevole a scariche dovrebbe essere collegato sì grazie presidente naturalmente mi ha permesso un ringraziamento non formale a Lucia Borsellino e al valore Trizzino per quello che hanno detto soprattutto perché lo hanno fatto con dovizia di particolari con concretezza e perché hanno anche il valore di Trizzino in particolare le sue correlazioni perfette oserei dire tra fatti e contesto rievocato anche il clima della Palermo all'epoca che magari chi come me è palermitano un po' si ricorda perché il tema della procura aleggiava di questa procura che era un nido di vipere vediamo a sapere dopo e soprattutto questo clima da Mani sulla città collegato al potere politico e al potere economico vi assicuro che era molto visibile perché i Sino andavano figli di Sino andavano nelle migliori scuole di Palermo qualcuno lo scorda Sino era considerato uno degli imprenditori più importanti di Palermo e tanti nomi che sono stati fatti molti di quei nomi che sono stati fatti sono dei principali costruttori che hanno costruito e devastato Palermo quindi un contesto molto importante e chi l'ha vissuto non si può meravigliare come questo potere economico e politico fosse non solo intrecciato ma non volesse avere rotto le scatole due passaggi una domanda dottoressa Borsellino in modo specifico lei ci ha dato una notizia importante oggi cioè ci ha consegnato ben compreso la rubrica telefonica contenuta nella agenda Marrone questa sì sicuramente trovata nella famosa borsa tanto c'è anche un po' una chiave di lettura che io ritengo plausibile assolutamente per una generazione che ancora utilizzava carta e penna con senso e quindi le faccio quasi una domanda provocatoria cosa c'era allora secondo lei che la viveva con il dottore Borsellino quindi non del relato in quella borsa quindi c'era la famosa agenda rossa c'era altro lei naturalmente a sua disposizione e a sua memoria e poi c'era una domanda per l'avvocato Trizzino Libera come forse mi è sfuggito volevo precisare meglio come inizia a collaborare con la procura di Catania e aveva manifestato ufficialmente ufficiosamente la volontà di tornare a collaborare anche con la procura di Palermo in questo meccanismo di indagini grazie grazie mille avvocato se vuole rispondere intanto l'onorevole Ascari se c'è parto da quest'ultimo per quanto riguarda lì si apre una pagina secondo me tra le più terribili della storia che è un incidente all'interno di tutta questa vicenda il cosiddetto caso Catania il giudice Felice Lima è stato vittima e lo dico senza paura di un attacco feroce della procura di Palermo per essere riuscito a fare quello che loro non erano riusciti a fare cioè valorizzando il rapporto ovviamente attraverso anche le dichiarazioni di Lipera fanno una richiesta di custodia cautelare che io ho agli atti che non venne vistata dal procuratore Alicata benché il procuratore Alicata avesse seguito tutte le indagini perché l'altra volta nella sua domanda il senatore Scarpinato mi ha chiesto di Lodigiani bene Lodigiani il primo che lo va a interrogare è stato Felice Lima ed era già nella richiesta di arresto non vistata del 15 ottobre del 1992 non bisognerà aspettare l'ordinanza la richiesta con l'ordinanza del maggio del 93 per avere il nome di Lodigiani la cosa incredibile e io vi rimando per le fonti per lo studio di questa questione fondamentale perché dimostra e io voglio sapere nell'ambito del procedimento 3541-92 stralcio Syrap una volta che il 5 settembre del 1992 De Donno produce l'informativa Syrap quali atti di indagini significativi sono stati fatti fino al 28 ottobre del 1992 quando scoppia il caso Lima che viene accusato dai magistrati della procura di Palermo di regare un danno alle loro indagini e il danno sarebbe quello di portare come teste al processo Claudio De Ecker che stava inquinando da mesi le indagini questo era il danno che stava provocando Felice Lima a Palermo De Ecker viene trovato con il verbale uscito dalla procura di Palermo di Leonardo Messina e lo scopre Felice Lima Felice Lima lo vuole arrestare subito perché Decker è il più proclive a delinquere di tutti gli imprenditori che sono nel rapporto di mafia appalti era un era un veramente un imprenditore spregiudicato c'è una registrazione della signora Stella che è la moglie di Lipera di quanto nello studio dell'avvocato Carlo Fabri Claudio Ecker e Carlo Fabri cercano di convincere la signora Stella moglie di Lipera pagandogli l'assistenza dei difensori conservandogli il posto di lavoro e tante altre per impedire al marito di collaborare questo è Claudio De Ecker archiviato e poi nella nella dichiarazione del 7 dicembre 92 di denuncia di Felice Lima questo sarebbe il danno dimostrare che quel soggetto che avrebbe dovuto fare il teste era un vero delinquente che stava inquinando le indagini e quando loro l'arrestano nel maggio del 93 era stato arrestato nel marzo del 93 dalla procura di Pordenone andava arrestato nell'ottobre del 92 come voleva Felice Lima perché stava inquinando le carte processuali altro che maggio del 93 e la cosa incredibile che la procura di Palermo afferma una cosa che normalmente fa un'eccezione che normalmente facciamo noi avvocati e cioè avete sentito l'ipera a sit come persona informata sui fatti e non come imputato di reato connesso ma fece bene Lima per tanti motivi primo non sapeva chi aveva di fronte la prima cosa che gli dice fuori verbale è che la procura di Palermo non si fida perché loro conosceva lui conosceva personalmente dal 28 febbraio il rapporto quindi da quella procura escono escono è uscito il rapporto e ce lo conferma Gildalo Forti Gildalo Forti lo dice è assai logico e probabile che la divulgazione legita sia avvenuta dalla procura non dai carabinieri altro che i carabinieri l'Ipera viene attaccato sottoposto ad un procedimento disciplinare devastante solo perché era riuscito a far parlare l'Ipera aveva capito la natura associativa del patto del tavolino che precede l'infiltrazione della mafia per cui prima esiste il sistema delle combine il racket ed era tutto desumibile dalla richiesta di arresto del 25 giugno 1991 gli stessi magistrati della procura di Palermo quando fanno la richiesta di arresto di Sino l'Ipera Falletta Cataldo Farinella Latitante e un altro che in questo momento non mi ricordo attraverso il giusto recupero che fanno delle dichiarazioni di Pino Aurelio e di Giacone che io ho definito erroneamente imprenditore ma era il sindaco di Baucina amico intimo del Taib ucciso nel settembre dell'89 da cui cominciano le indagini proprio la Tordivalle che si associa con un imprenditoricolo di quattro soldi da lì nasce l'inchiesta oltre che dell'omicidio di Barbaro la Barbera sono veloce però come si fa a essere veloce a raccontare la storia d'Italia in quattro righe come si fa Felice Lima è uno scandalo ha subito la stessa sorte di Augusto Lama solo solo perché si era infilato in quella cosa in cui non si doveva infilare allora io voglio sapere nel momento in cui l'informativa si rap è a terra su Palermo il 5 settembre e siccome c'era stato lo straccio del 15 giugno 3541 barra 92 quali deleghe di indagine sono state fatte sulla base della lettura dell'informativa si rap perché se per caso si dovesse scoprire che dal 5 settembre al 28 ottobre non c'è niente ci deve essere una spiegazione tra l'altro Felice Lima nei verbali vi rinvio a questi atti che vi produco richiesta di arresto non vistata dal produttore l'Alicata quello che ci dice Teresa Principato è nel Maxi Bis che aveva chiesto che rispetto a un procedimento a carico di Susini tenuto da Felice Lima attraverso l'acquisto si doveva arrivare ad Alicata per influire su Felice Lima sempre questo è il giro d'acquisto capo di una procura tac sostituto che si occupa di certe indagini sempre questo e ce lo dice Teresa Principato nei verbali della commissione circostanza emersa nel processo Maxi Bis altra cosa fondamentale è che quindi vi rinvio per la storia del caso Lima al relazione della procura di Palermo del 7 dicembre 1992 al CSM anzi andiamo prima richiesta di custodia cautelare non vistata del 15 ottobre del 1992 di Felice Lima e anche vi ho prodotto gli interrogatori del 13, 14, 15 gennaio 20 luglio eccetera di 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 li troverete anche i tentativi che gli avvocati memisalvo soprattutto memisalvo fa per far tacere li pera e tra le cose che gli contestano nella relazione del 7 che li pera è stato sentito non alla presenza di quell'avvocato di cui loro oggi dicono che era un mafioso vedete la contraddizione la contraddizione è pazzesca è una cosa è un paradosso tutto questo io avrei voluto veramente avere più tempo per rappresentarmi passo passo tutte le anomalie di quella gestione ma guardate che il caso Catania grida vendetta non si è mai visto che tra rapporti e uffici e poi come se Caltanissetta che aveva dimostrato l'inattendibilità di Ciancimino avesse sollevato un caso al CSM perché l'arresto lo fa la procura di Palermo che l'aveva portato in giro in Italia come l'icona dell'antimafia non è successo niente ci si fa ci fa una telefonata tra capi e dice guarda non ti ho fatto il collegamento per questo motivo c'era il problema che l'ipera era chiuso in un carcere con i mafiosi e che c'erano in atto manovre inquinatori anche da parte della mafia per non farlo parlare tramite l'avvocato me mi salvo e poi sentite sentite lo dichiara Felice Lima al CSM nel marzo e dell'aprile del 1996 atti che vi ho depositato io ho parlato con Borsellino ed è stato lui fa capire a non far mandare niente a Palermo chiaro? ma le ragioni di Lima sono estremamente importanti perché tutto avviene in quattro mesi l'articolo 371 stabilisce una facoltà in un obbligo Palermo aveva anch'essa l'anonimo di Catania perché non si interessava a Palermo visto che l'anonimo era stato sequestrato come atto di delega d'indagine della procura di Palermo in realtà se voi leggete la posizione di Decker nell'archiviazione è pazzesco come si valorizzano le sue deduzioni pro domo sua difensive si analizzano molto attentamente telefonate pezzi di intercettazione i documenti però tutti gli elementi che invece andavano a carico della posizione che erano lì perché la lettera di Roera e l'appunto dell'articolo sequestrato nella segreteria di Caltanissetta dell'Ipera erano stati sequestri fatti dai rossi su delega di indagine della procura di Palermo erano lì gli atti ecco quali sono le anomalie che non ci convincono noi pensiamo a torto ragione che quella archiviazione fu accelerata non si diede il tempo a Borsellino di ritornare se fosse vissuto e a dire ne parliamo dopo come fa nella riunione del 14 gli dice vedete di acquisire gli atti dell'ultimo pentito che era Leonardo Messina e poi di questa questione ne parliamo appena torno dalla Germania e secondo voi un magistrato parla così se gli avessero detto c'è un'archiviazione nello stato degli atti ma di che cosa stiamo parlando quindi vi invio per la studio attento del caso Lima al provvedimento della dottoressa Gilda Loforti alla relazione della procura di Palermo del 7 dicembre 92 alle relazioni alle sedute dell'aprile del marzo dell'aprile 96 nella sezione disciplina del CSM in cui il felice Lima spiega secondo me con grande convincendomi pienamente che non era opportuno e che non c'erano ragioni visto i pericoli di vita che correva l'ipera e soprattutto le manovre inquinatorie accertate di Claudio Ecker alcuna necessità di informare Palermo e che anzi in vista dell'inizio del dibattimento del 19 ottobre del 1992 del procedimento a carico di Sina altri bisognava bloccare arrestare Lodigiani Decker Catti De Gasper eccetera perché erano tutti associati a delinquere semplice in una grande organizzazione volta alla gestione illecita degli appalti in cui poi viene anche la mafia prego dottoressa Borsellino se vuole aggiungere soltanto sulla conoscenza di mio padre con Di Pietro allora era una conoscenza che chiaramente si ascrive più al periodo finale della sua vita questo lo sappiamo dal dottore Di Pietro ma io poi l'ho conosciuto personalmente insieme con mia madre a casa nostra perché è venuto a casa dopo la strage di mio padre e fu lui che appunto ci confermò che stava lavorando con lui aveva frequenti contatti nell'ultima fase della sua vita noi dire la verità per essere estremamente trasparenti e chiari non abbiamo trovato il suo numero per esempio in quella famosa rubrica per chi poi dovesse sollevare anche questo tipo di obiezione visto che ci aspettiamo tutto però c'è il numero del Rossi di Milano la domanda è vero la Presidente mi ricordava che tra le sue domande vi era anche un onorevole russo la questione del contenuto della borsa allora io ho testimoniato personalmente nella fase del dibattimento del Quater sono stata sentita come test della difesa chiamata dall'avvocato Repici per testimoniare in ordine alla presenza dell'agenda rossa e l'agenda rossa era contenuta all'interno della borsa perché io sono stata una testimone oculare dell'utilizzo di questa agenda da parte di mio padre la mattina del 19 luglio così come mio zio Bruno Lepanto è stato testimone del fatto che mio padre avesse aggiornato l'agenda la rubrica proprio quella mattina del 19 luglio lui era solito alzarsi molto presto e in particolare quella mattina si era alzato prima delle 5 perché alle 5 aveva avuto un appuntamento telefonico con mia sorella prima che poi venisse chiamato alle 7 dal procuratore Gianmanco perché io fui testimone di quelle ore che papà trascorse a lavorare perché visto che la mia stanza era la mia camera da letto era occupata dagli zii che dormivano da noi in quei giorni io dormivo quella notte nel divano che vi era proprio in prossimità della sua scrivania quindi io fui svegliata dalle telefonate a partire da quella delle 5 del mattino per cui poi mi trattenni nel letto senza dormire chiaramente in dormiveia e guardando ovviamente tutto quello fino a poi svegliarmi completamente tutto quello che papà aveva fatto prima di andare via tra l'altro lui partì da casa intorno alle 9 e mezza a 10 se non vado errata e quindi fino a quel momento aveva continuato a lavorare e si era poi dedicato si era poi ritagliato questo spazio della mattina fino al primo pomeriggio per stare con la sua famiglia a Villa Grazia io sedi proprio a stretto contatto con lui perché fino all'ultimo voleva convincermi ad andare con lui la mattina convinse mia cugina a 12 anni che mise con lui in macchina quindi se mio padre fosse stato sicuro di morire quel giorno mi risulta che c'era stato un tentativo di far brillare l'ordigno la mattina stesso mio padre avrebbe portato a morte anche me e mia cugina Silvia di 12 anni quindi mio padre questo dimostra che fino all'ultimo ha creduto nella possibilità che lo Stato potesse proteggerlo questo lo dico a gran voce poi per un puro caso io non fui con lui perché appunto l'indomani dovevo sostenere un esame all'università che poi fu rimandato di una settimana perché fu proclamato il lutto cittadino e quindi poi appunto non lo vedi più dalle 10-15 in poi perché appunto si è presto ad andare alla Casa del Mare quindi la agenda rossa era contenuta nella borsa insieme con l'agenda marrone di cui vi ho parlato contenente la rubrica vi era un costume da bagno le chiavi di casa le sigarette che ci sono state restituite tutto in integro perché la borsa è stata ovviamente ha subito una trasformazione nell'esplosione esterna ma a livello esterno esteriore ma non ha assolutamente compromesso il contenuto per questo io mi sono particolarmente arrabbiata quando il capo della squadra mobile il dottore Arnaldo Barbera ci ha consegnato la borsa e non ci ha dato l'agenda perché io ero certa che fosse contenuta all'interno di quella borsa lo dimostra il fatto e questo lo dice il maresciallo Canale più volte che quando e anche il suo collega di Salerno Diego Cavaliero che quando mio papà si trovò lì a Salerno per il battesimo del figlio del collega Diego Cavaliero per un attimo dimenticò l'agenda rossa in albergo e fece di tutto per riuscire a recuperarla sebbene poi sarebbe ritornato in albergo e quindi l'avrebbe naturalmente ritrovata ma anche quelle due ore di permanenza dell'agenda in albergo a lui destava preoccupazione quindi questo dimostra il fatto che l'ha portata con sé e sono certa di questo per averlo visto inserire all'interno della borsa come risulta anche le mie verbali posizioni innanzi all'autorità giudiziaria presso la procura di Caltanissetta e escludo la possibilità che lui l'abbia minimamente lasciata per esempio nella casa del mare pur avendola utilizzata o in altri luoghi perché appunto non se ne separava mai e avrebbe fatto di tutto per ritornare nel luogo dove l'aveva dimenticata quando anche nella malagurata ipotesi l'avesse lasciata a Villa Grazia di Carini non gli sarebbe stato dato il tempo di ritornare perché nel frattempo è stato ucciso e a Villa Grazia di Carini noi abbiamo subito un furto che abbiamo regolarmente denunciato nel quale peraltro non ci sono state forzature e che ha messo a suo quadro soltanto lo studio di mio padre senza rubare nulla che fosse importante almeno non abbiamo rinvenuto la sottrazione di alcun oggetto che potesse essere di valore quindi questo è tutto quello che posso dirvi sull'argomento io mi sono presidente posso? ho avvocato io non ho quello uso un attimo ma non non era mia intenzione sulla natura dei rapporti tra Falcone Di Pietro e Borsellino io la rimando senatore al verbale dell'aprile del 1999 il Borsino Terri che ho tra gli allegati dove lì Di Pietro spiega perfettamente come nasce il primo rapporto con Giovanni Falcone legato a un progetto di informatizzazione diciamo degli uffici della procura perché Di Pietro è uno che era abile con gli strumenti informatici poi da lì si comincia a parlare siamo nella primavera siamo nella primavera nel 92 quindi Falcone ancora vivo Borsellino ancora vivo e cominciano in tutti e tre e lei lo vede dal verbale del 99 tutti e tre Falcone Borsellino e Di Pietro parlano delle indagini siamo all'inizio Bagina Sea piccole cose lombarde Di Pietro Borsellino e Falcone hanno invece rapporto non dimenticate la reazione di Falcone quando nell'agosto del 91 Giammanco gli manda il rapporto lo stanno insabbiando non dimenticate la reazione di Borsellino come come raccontato ci da da Antonio Ingroia nel 2021 lo stanno insabbiando Borsellino credeva che stessero insabbiando quell'indagine ho spiegato più volte la manovra a Tenaglia ok tra Di Pietro da una parte Falcone procuratore nazionale Borsellino non oso immaginare tant'è vero che c'è una dichiarazione del 98 di De Donno in cui De Donno dice Falcone mi chiama e mi dice se divento super procuratore la voglio con me nella costituenda forza di indagine che vado a creare e secondo voi De Donno di che cosa si sarebbe occupato con Falcone non penso di Stefano delle Chiare mi pare un po' difficile in quel momento storico oppure ma non lo voglio dire lo potrei dire anche non so di Curcio Moretti a me non interessa il colore nero bianco rosso delle frange terroristiche a me piace l'aderenza ai fatti e ho dimostrato che Riina era tramite Pansavolta Bini Buscemi era così con Raul Gardini quello che è in grado di fare una telefonata è bloccare un'inchiesta l'Italia stava cambiando non c'erano più quei paradigmi poi c'è sempre ci può essere sempre un rimasuglio ma dire che la mafia etrodiretta dall'eversione è una follia perché è smentita dai fatti è la storia di Cosa Nostra che è così ma quella di Riina poi non ne parliamo Riina è talmente ossessionato che non si fida manco dei suoi noi siamo riusciti Scarantino è rimasto in vita nonostante Ferrante che si penta nel 96 perché Ferrante non sapeva realmente che aveva rubato la macchina e Ferrante chi è? colui che presidia Borsellino la domenica da via Cilea fino a via c'è tutta la staffetta e Ferrante non sa chi ha rubato la macchina quindi Urrina che non si fida manco dei suoi deve appaltare a chi che sia le stragi ma io questa cosa se riuscite a dimostrarmela io sarò il primo a chiedere scusa a tutta l'Italia però su questo voglio essere giudicato su questo voglio essere contrastato che domanda c'era? Avvocato Trizzino nessuno la giudica mi permetto di dirlo a nome di tutti perché insomma ci mancherebbe altro allora io comunico ai colleghi che l'aula è ripresa e quindi il tempo è a nostra disposizione è praticamente terminato però siccome ho iscritta l'onorevole Ascari se l'onorevole Ascari per correttezza e per lasciarvi rispondere a tutti riesce a essere velocissima poi il vicepresidente Dattis voleva sollecitare una domanda e liberiamo la dottoressa Borsellino e l'avvocato Trizzino grazie presidente farò il possibile anche perché come sa il tema è estremamente complesso e io ringrazio anch'io l'avvocato Trizzino la dottoressa Borsellino grazie dell'importante contributo e io parto con la prima domanda cioè comunque sappiamo dato di fatto che Falcone stava indagando su Glatio prima ancora che questa organizzazione diventasse di pubblico dominio la domanda è specifica per la dottoressa Borsellino e sappiamo che dopo il fallito attentato alla Dauraf Falcone parlò per la prima volta di menti raffinatissime nel corso del processo per l'omicidio Rostani è stato acquisito un documento che è datato 10 giugno 1989 nel quale si davano istruzioni per una operazione riconducibile a Gladio con l'utilizzo di mezzi del centro Scorpione di Trapani mi riferisco all'operazione Domus Aurea operazione che doveva svolgersi proprio nel tratto di mare antistante in villino abitato dal dottor Falcone alla Daura 10 giorni dopo c'è stato l'attentato fatto sta che 3 anni dopo quando il dottor Falcone si è trasferito all'ufficio affari penali del ministero di grazia e giustizia a Roma ha portato con sé alcuni file che riteneva importanti tra questi quello su Gladio un mese dopo la strage di Capaci qualcuno ha consultato quei file Gladio compreso io vorrei chiederle dottoressa Borsonino se vostro padre vi ha mai parlato di Gladio e questa è una domanda all'interno comunque del nucleo familiare se sì prima del 1990 anche perché ci fu un dibattito feroce con Gian Manco proprio su questo argomento la seconda domanda cerco di essere velocissima è questa la signora Agnese sua mamma ha dichiarato durante il processo per la strage mi ha accennato qualcosa e non in quel contesto che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato ma che durava da un po' di tempo dopo la strage di via i Capaci dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato e non mi dice altro ecco io questa è una domanda che faccio proprio sempre a lei dottoressa Borsellino perché vorrei capire se proprio all'interno delle mura avete avuto modo con la signora Agnese di approfondire proprio questa dichiarazione nel merito proprio come nucleo familiare anche perché a proposito della dichiarazione poi la strage di Via D'Amelio è sempre stata definita anomala proprio perché è troppo ravvicinata quella di Capace anche perché le conseguenze sarebbero state ovviamente parolesemente dannose per gli stessi mafiosi ecco questo è quello che ci teniamo a sapere poi per quanto riguarda l'avvocato anche Trizzino vorrei chiederle a proposito della trattativa di trattativa Stato-mafia ad aprile come tutti sappiamo ad aprile scorso la Cassazione ha confermato l'assunzione ovviamente per gli uomini dell'arma per quanto riguarda l'ex parlamentare dell'Ute o di aver riconosciuto la prescrizione per il boss di Cosa Nostra di Luca Bagarella e per il medico Antonino Cina ritenuto vicino a Totorina assolti per non avere commesso il fatto e non perché il fatto non costituisca reato ricordo a tutti noi che ovviamente le migliaia di pagine delle motivazioni della sentenza di secondo grado i giudici siciliani spiegando le ragioni della soluzione dal reato di minaccia a corpo politico dello Stato e parlando del ruolo svolto dai militari dell'arma hanno scritto che una volta assodato che la felicità perseguita o comunque prioritaria non fosse quella di salvare la vita dall'ex ministro Mannino ad altre figure di politici che rischiavano di far la fine di Lima nulla osta riconoscere che i carabinieri abbiano agito avendo effettivamente come obiettivo quello di porre un argine all'escalation in atto della violenza mafiosa che rendeva più che concreto attuale il pericolo di nuove stragi attentati con il conseguente corredo di danni in termini di istruzioni sovvertimento dell'ore della sicurezza pubblica e soprattutto vite umane insomma non è un reato trattare con i boss mafiosi per arginare la violenza mafiosa e qui la mia domanda se il dottor Borsellino è morto perché come è emerso anche da queste importanti audizioni che aveva intenzione di proseguire l'indagine quindi sul dossier mafia appalti ritenendo quindi la commissione tra politica e mafia da denunciare e combattere assolutamente cosa pensate ecco lo chiedo a entrambi perché ho sentito una parte di una versione cosa pensate entrambi di questa sentenza della Cassazione una sentenza che assolve uomini dello Stato che hanno trattato ovviamente con i mafiosi ultime due domande velocissime per quanto riguarda onorevole Ascari guardi sono queste due sono velocissime il discorso del fatto che il dottor Borsellino andò in Germania e questo è un punto che vorrei che venisse approfondito se è stato approfondito anche dall'avvocato Trezzino e proprio il giorno della strada avrebbe dovuto andare in Germania per parlare con Giacchino Sghembri per l'omicidio Livattino e se pensa che quella visita fosse collegata alle indagini che Livattino stava facendo prima di essere ammazzato anche con riferimento al traffico di armi ultima domanda la dottoressa Lucia Borsellino ha parlato della visita della moglie di Scarantino che è stata filtrata parlava dell'ex fidanzato del tempo questo è un punto che vorrei capire appunto quel filtro che c'è stato se ha riferito in merito a quella che era la volontà di interlocuzione con la famiglia Borsellino grazie grazie mille vicepresidente Dattis scusi ho capito che c'è una domanda che voleva ripetere perché non è stata risposta poi però li libero si si riguarda la mafia e appalti avevo chiesto sulle altre aveva risposto le ringrazio se fosse possibile sapere quali sono stati in effetti poi i magistrati che hanno insistito all'archiviazione seppur parziale dell'inchiesta mafia e appalti e quindi massimi promotori di questa decisione che avvenne prima insomma poi della strage grazie prego non so chi vuole iniziare prego dottoressa Borsellino per quanto riguarda l'ultima domanda documentale si trova nel 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 testo il nome dei magistrati che hanno firmato la richiesta di archiviazione di posizioni e che sono state definite residuali nell'ambito dei processi di Avezzano e di Caltanissetta tra questi vengono appunto Nino Buscemi Lipari Equizzi Bulgarella e Nino Spezia considerato che quindi posizioni residuali il compendio probatorio in realtà non era per questa residualità quindi i nomi si trovano nel documento c'è da accertare semplicemente un aspetto che riguarda la posizione del visto sulla richiesta perché il dato documentale è riconosciuto tra l'altro nella sentenza Pellino a pagina 1582 Cici addirittura che Ciammanco avrebbe vistato il 22 questo francamente non lo so certo se ha vistato la richiesta dopo la morte di Borsellino per me ha un significato importante perché senza il visto del procuratore quello era un atto tanco meno Nesset si è ritenuto come ultimo atto prima di andare via dalla procura di vistare quell'archiviazione poi a sua volta accolta De Plano il 14 ecco l'archiviazione poi attenzione non è l'archiviazione rispetto ad un procedimento non è che significa che l'indagine la riprendi come vuoi no devono arrivare nuove prove devi chiedere devi chiedere a un giudice terzo che l'autorizzazione a reindagare e devi motivare quali sono le fonti di prova che danno in qualche modo come dire reviviscenza all'importanza dell'attualità di una nuova indagine quindi si può dire quello che si vuole ma con riferimento a quelle posizioni in quel contesto ben preciso che noi abbiamo preso con riferimento cioè i 57 giorni della morte di Borsell tra le due stragi c'è anche l'archiviazione quindi quello è quello che è stato fatto dopo mi interessa relativamente viva Dio c'è l'obbligatorietà dell'azione penale in questo paese di fronte alla messa incredibile di poi di situazioni che sono emerse che però erano in nuce anzi più che in nuce dentro il rapporto e questo è l'oggetto della mia contestazione certo che sono stati fatti i processi ma sono stati fatti come una semplice tangentopoli ci ha mai ponendo in relazione l'interesse di Borsellino per quelle carte e la sua uccisione quindi trovate tutto negli atti chi sono chi ha chiesto beh sono vabbè non c'è problema il dottor Scarpinato e il dottor Loforte richiedono il visto viene a posto dal dottor Germanco e il dottor Sergio Lacomare il 14 agosto De Plano accoglie la richiesta di archiviazione sì io sarò pure velocissima la prima domanda che mi è stata posta è l'opinione che avevo rispetto a quanto è accaduto con riferimento al tentato omicidio nei danni di Giovanni Falcone alla D'Aura allora io voglio chiarire intanto la mia posizione che credo sia abbastanza chiara io sono la figlia di Paolo Borsillino e sono qui non in veste di opinionista o di persona esperta in maniera in materia giuridica me ne guardo bene vorrei anche dire che riportandomi all'epoca dei fatti io ero appena una ragazzina in particolare nell'89 avevo 19 anni poi quando è morto mio padre ne avevo 22 mio papà ma questo è risaputo noi potevamo cogliere qualche aneddoto della sua vita lavorativa ma non certo eravamo destinatari di confidenze specie con riferimento a quello che poteva essere un tema delicatissimo qual era stato appunto quell'evento che aveva caratterizzato l'attentato il fallito attentato alla D'Aura lo stesso lo dico con riferimento alle dichiarazioni che ha reso mia madre innanzi all'autorità giudiziaria di Caltanissetta nel 2009 prima innanzi appunto al procuratore Lari e al sostituto Luciani e poi nel 2010 sempre innanzi al procuratore Lari e al sostituto Nico Gozzo dove ebbe a riferire proprio di questi colloqui tra mafia e Stato allora anche lì mia madre e lo ha detto lei quindi non noi lo riferiva allora per la prima volta stiamo parlando degli anni 2009 2010 quindi a distanza dalla strage proprio perché fino a quel momento aveva voluto tutelare noi figli quindi noi non siamo stati mai destinatari anche dopo la strage di confidenze di mia madre in questo senso quella era la prima volta che lei deponeva in questi termini dinanzi all'autorità giudiziaria noi non avevamo avuto alcuna anticipazione poi anche su questa frase io non sono tenuta a commentare nulla ci sono dei processi che sono stati svolti io vorrei che tutti come sto facendo io che non è addentro alle indagini e che non ha studi giuridici alle spalle abbia l'umiltà di dire che appunto non è competente sul tema ma proprio su questa dichiarazione di mia madre è stato invasito un intero processo quello appunto sulla trattativa che è giunto agli ultimi gradi di giudizio quindi non sta a me dire che peso avessero quelle confidenze che mio padre in un momento di disperazione visto che ormai non si poteva fidare più di nessuno quasi disse a mia madre avendo la piena consapevolezza che era arrivato alla fine dei suoi giorni perché in realtà la questione che lui fosse oggetto e fosse il prossimo bersaglio come è stato chiaramente precisato anche dall'avvocato Trizzino era qualcosa che mio padre era giunta già il 18 giugno quindi il 16 giugno quindi l'accelerazione già era in re ipsa se di accelerazione si vuole parlare perché già lui ne era a conoscenza ben prima di quando poi ufficialmente il procuratore Giammanco ebbe modo di riferirglielo solo a seguito di un duro confronto e di una dura rimedicazione da parte di mio padre il 28 giugno a seguito dell'incontro appunto col ministro col ministro andò e poi vorrei dire che mia madre in quel termine stato non intendeva un'accezione generica perché non c'è niente di più sbagliato che ritenere lo Stato nella sua interezza coinvolto nel sotto diciamo il giudizio dell'infedeltà a quelle che sono invece i suoi servitori migliori perché in realtà sono persone che si sono macchiate di infedeltà ma sono persone quindi vanno perseguite sul piano individuale non è lo Stato nella sua interezza questo ci teniamo a dirlo proprio perché vogliamo continuare a nutrire fiducia nelle istituzioni da cui siamo governati e soprattutto nelle quali viviamo e delle quali facciamo parte per quanto riguarda volevo telegraficamente credo di avere ampiamente sviscerato la questione di Gladio Falcone indaga Gladio proprio quando si scopre la struttura non poteva farlo prima è chiaro? e questo è uno degli effetti degli equilibri mondiali che stanno crollando poi per quanto riguarda i file del pc di Falcone lì siamo cioè lì è arrivato qualcuno prima di Genchi perché Genchi non li ha trovati e questo qualcuno è forse la stessa criminal al Pol che poi li ha portati per sbaglio a Palermo e poi infine Paolo Borsellino ha dimostrato comunque di avere fiducia nel Ross fino al 14 sicuramente perché li difende e anche il 15 perché io insisto sulla struttura semantica di quella frase ho visto la mafia in diretta mi hanno detto che perché perché mi hanno detto perché me l'hanno detto non perché perché mi hanno detto che Sobrano è punciuto lì chi glielo sta riferendo è il mafioso non Sobrano su questo io insisto perché la lettura complessiva delle carte mi porta a dire che del resto siamo in Sicilia nulla è per come appare questo è il risultato io di questo mi sono fatto ormai sono convinto che nulla di quello che appare è e viceversa ci hanno si insiste nonostante noi siamo venuti a portare una nuova chiave di lettura si insiste ideologicamente quasi che la verità su Paolo Borsellino sia una questione ideologica ma è pazzesco tutto questo sono quelle cose attorno a cui un paese deve rifuggire da qualunque dogmatismo ideologico noi non teniamo famiglia come Paolo Borsellino noi abbiamo perso tutto tutto anche la verità quindi l'atteggiamento migliore per tentare di ricostruire questa storia è il non tenere famiglia non difendere rendite non difendere posizioni eccetera bisogna essere totalmente disinteressati noi abbiamo un unico problema da questo punto di vista e lo io non sono sempre così e ve l'ho dimostrato siamo emotivamente coinvolti però ciò nonostante ho cercato di seguire un metodo rigorosissimo nell'analisi delle carte ma per ricostruire questa vicenda bisogna essere liberi liberi senza libertà non avremo verità grazie mille avvocato trizzino grazie dottoressa borsellino io voglio solo dire che spero che la sofferenza generata da questi ricordi possa essere alleviata anche se solo in parte dal lavoro che questa commissione intende fare di sola eppure ricerca della verità che credo meriti il giudice borsellino perché è e resta una delle figure più significative importanti della storia italiana e proprio all'unanimità e in modo assolutamente corale e comunitario noi gli dobbiamo questa richiesta e questa risposta alla richiesta di verità e credo che ce lo abbia detto anche nell'ultimo sua relazione fatta qualche mese prima della sua uccisione quando parlò di criminalità politica e giustizia io ringrazio tutti vi ringrazio veramente di cuore per esservi sottoposti a queste altre tre ore di viaggio e sono certa che la commissione parlamentare antimafia dopo tutti questi anni farà nel suo complesso il meglio possibile per alleviare la vostra solitudine grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti